Allora, se prendiamo posto, cerchiamo di iniziare in modo da tenere i tempi giusti. Molto bene. Allora diamo ritmo. Per chi non c'era ieri, questa è la continuazione di due giorni delle norme tecniche. Non sto qui a dire niente perché non ho niente da dire di importante. Abbiamo relatori importantissimi anche oggi, argomento importante, scelto volutamente perché ci sono novità sui materiali ed altro. Allora, piano piano mettiamoci seduti. Siamo tanti anche oggi. Ieri abbiamo avuto una difficoltà. Io chiedo scusa ma sono rimasti fuori i 300 nostri colleghi. Il motivo è che non era opportuno non consentire l'accesso anche a chi non era strettamente nel settore tecnico perché ieri c'erano anche persone delle amministrazioni. Siccome le norme sono sicuramente un appannaggio dei professionisti, sono regole per noi ma sono indirizzate alla sicurezza della gente. Quindi abbiamo lasciato aperto l'accesso. Poi abbiamo aperto una seconda sala streaming e una terza. Ieri eravamo 1300 persone a Salerno con collegamenti in tutta Italia. Intanto un saluto a tutti gli amici delle sedi degli ordini ingegneri d'Italia che sono collegati con noi e siamo pronti. Allora, il mio compito oggi è solo quello di accompagnare, poi scompaio subito. Io inviterei immediatamente i relatori di oggi a prendere il posto sul tavolo. e Gianluca Evolella del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che vedo lì. Il professore Piluso dell'Università di Salerno. Non vedo Andrea Prota, che arriverà fra qualche minuto. Il professore Occiuzzi. Adesso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il professore Annapoli. e siamo contenti di vederlo. Non ho visto Raffaele Nardone. Il consigliere Massimo Mariani. E l'ingegnere Giuseppe Rossi, che è membro esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Massimo Mariani è consigliere nazionale del nostro Consiglio. Ecco il professore Andrea Prota. Ecco, non vedere Prota che... Gianni Massa. Gianni Massa oggi è il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Dicegneri. Gianni, oggi terrai tu la conduzione della mattina. Ti prego di sederti. E se siamo pronti cominciamo. Allora Gianni, io direi di dare subito l'inizio. e immediatamente dopo, all'ingegnere di Vodilla del Consiglio Superiore, partiamo con la giornata. Io affido a te il microfono, portami. Il controllo è la sala. Grazie. Grazie, grazie Michele, grazie a tutti. Intanto in questa seconda giornata di questo convegno così importante, che ha avuto anche tanto risalto mediatico, ritengo importante ringraziare l'ordine di Salerno. e devo dire che anche la presenza di tantissimi rappresentanti istituzionali dell'università, del ministero, dei consigli nazionali, di tanti consigli degli ordini che sono venuti qui a Salerno, ma che sono anche collegati via streaming. Si sente, io vengo dalla Sardegna, vengo da Cagliari, anche il mio ordine che è una grandissima commissione strutture, ha tanti colleghi, amici collegati via streaming. NTC. Allora, una prima considerazione la vorrei fare dal punto di vista letterale. Tutta la stampa e la comunicazione del settore, i titoli, la grande comunicazione, sono uscite le nuove norme, nuove norme tecniche. Ora, il titolo in gazzetta è aggiornamento di norme, quindi anche da questo punto di vista della comunicazione, questo confine tra ciò che è nuovo e ciò che viene aggiornato, è un confine in cui noi come professionisti tecnici forse dobbiamo dare attenzione nella nostra comunicazione, perché noi viviamo in un paese in cui l'aggiornamento delle norme, l'aggiornamento delle macchine, delle cose, è un aggiornamento che spesso viene inserito obbligatoriamente nelle norme, nelle leggi, ma poi nella quotidianità delle nostre istituzioni questi aggiornamenti non vengono fatti, lo sappiamo bene con quanto prescriveva il testo unico del 2001. Altra problematica che viene messa in evidenza nel dibattito è una problematica sicuramente che è stata trattata ieri, io sono arrivato oggi quindi non ho potuto sentire gli interventi della giornata di ieri, ma è sicuramente stata trattata, cioè il problema del tempo, il problema della velocità, il problema di una norma che quando si è comunque già tutti d'accordo ed è già condivisa a necessità di due, di tre, di quattro anni per fare il passaggio istituzionale prima della pubblicazione in gazzetta, prima che diventi uno strumento, uno strumento di lavoro di ogni singolo professionista dentro e fuori la pubblica amministrazione, uno strumento di lavoro che consenta a quel e a quei professionisti di fare da interfaccia tra il cittadino, tra il nostro patrimonio costruito e l'amministrazione. Devo dire anche che da alcuni anni il processo di scrittura delle norme in tutti i gradi, arrivare poi alle norme primarie è molto complesso e sappiamo anche quanto tempo è necessario per arrivare in questo Paese a modificare una norma primaria, parliamo di decenni, oggi parliamo di un decreto interministeriale. Questo processo adesso vede i professionisti abbastanza presenti nel processo di scrittura delle norme. Io sono spesso autocritico e voglio essere autocritico, però devo anche riconoscere che oggi i professionisti sono chiamati in quei tavoli. alcuni esempi, questo di cui trattiamo oggi, il sisma bonus, le linee guida industria 4.0, ma ce n'è tanti. Però anche in questo caso il nostro linguaggio, il linguaggio della tecnica si scontra con altri linguaggi, il linguaggio della vocatura dello Stato, il linguaggio della Corte dei Conti, il linguaggio dell'apparato normativo che ha più di 100 anni. E quindi è veramente complesso, è una sfida difficile quella di contaminare, di riuscire a contaminare con il nostro linguaggio, il linguaggio pratico, pragmatico della professione tecnica, in particolare quella degli ingegneri, fino ad arrivare a una norma che per legge, chi scrive la norma non è esclusivamente una categoria professionale. E in questo processo la notizia di ieri è stato approvato il glossario del nuovo regolamento edilizio unico dal Ministero della Semplificazione e delle Infrastrutture, dal MIT, così come in Consiglio Nazionale ci siamo accordati con UNI per iniziare le prime quattro nuove prassi di riferimento, i cosiddetti standard, una delle quali riguarderà proprio il progettista nel campo delle strutture. Allora, altre due cose voglio dire. L'esempio che trattiamo oggi è uno di quegli esempi, nella scrittura delle norme di questo Paese, che noi siamo deputati a applicare, a interpretare ogni giorno con il nostro lavoro, inizia ad agire su alcuni confini, quello tra miglioramento e adeguamento, che gli illustri relatori di oggi sicuramente, tecnicamente, sapranno spiegare benissimo. Qual è questo confine tra miglioramento e adeguamento? E come possiamo continuare a agire su questo confine per arrivare a una scrittura di una norma, fonte primaria? Il confine tra prestazione e prescrizione. Noi abbiamo un apparato normativo prescrittivo. Forse questo confine deve essere trattato con una nuova visione. Il confine tra prescrizione e prestazione, tra ciò che è probabilistico e ciò che è deterministico. Sicuramente l'aggiornamento introduce un nuovo concetto di rischio. Sicuramente anche dal punto di vista interpretativo occorre lavorare. Chi è progettista, chi è direttore lavori, chi lavora nella pubblica amministrazione, nel controllo, chi lavora nell'impresa, ma poi chi lavora quando accade qualcosa, nell'ambito della magistratura. E' possibile che le norme possano essere interpretate in maniera così differente? E' un altro confine, è quello tra ciò che ha una scadenza e ciò che non ha una scadenza. Il concetto di durabilità, di mantenimento nel tempo delle prestazioni che il progettista dà alla sua opera. Io, come dire, molti di noi siamo nati in un paese in cui la scuola ci ha insegnato, forse, o forse mi sbaglio, che una costruzione, in particolare in cemento armato, era infinita. Cioè durava per sempre, per tutta la vita, però come i diamanti che durano per sempre. Poi non è così l'amore, no? Ecco, sul concetto di durabilità, è un concetto culturale. Il concetto di manutenzione deve essere un concetto culturale. E noi già, finalmente, da alcuni anni stiamo lavorando, la norma lavora in questo senso. E questa norma ha iniziato a lavorare. Infine, il ruolo del Consiglio nazionale, dei consigli nazionali. Noi abbiamo la formazione obbligatoria. Ecco, deve essere un'opportunità. Ma questa opportunità come deve essere colta? Deve essere colta in questo modo, secondo me e secondo noi. Deve essere colta attraverso una sensibilizzazione dell'applicazione della norma, dell'interpretazione della norma attraverso il progetto. Noi abbiamo cercato, con tante complessità e non senza criticità, di iniziare questo percorso, per esempio per Industria 4.0. Abbiamo iniziato insieme a tanti altri attori andare sui territori cercando di applicare attraverso il progetto i concetti delle linee guida di Industria 4.0. Laddove il progetto è il progettista, in questo caso l'ingegnere, diventa il perno della interpretazione di quella norma. Una norma che ha tanti attori e tra questi attori, dal cantiere al progetto alla pubblica amministrazione, ci vede presenti in ruoli differenti, ma l'ingegnere è presente nell'amministrazione, che è uno dei due pilastri degli Stati, soprattutto in un momento in cui, fra pochi giorni votiamo, in un momento in cui la politica, il primo pilastro di uno Stato, è debole. Ed è debole perché non abbiamo una legge elettorale stabile. E allora i professionisti, che sono un tassello dell'amministrazione, devono insieme trovare linguaggi comuni per far diventare quel pilastro un vero pilastro del nostro Stato. E allora la formazione in questo settore può essere una formazione che mette insieme, attraverso gli ordini anche, soprattutto attraverso gli ordini, perché gli ordini sono quel luogo un po' fantastico, fisico e virtuale, dove tutti gli approcci all'ingegneria si possono incrociare, queste interpretazioni. Ho terminato e termino solamente con una considerazione. La considerazione è questa. La norma è uno strumento. Noi dobbiamo applicare la norma. Tanti professionisti in altre materie, anche in altre discipline, la applicano. L'ho già detto quando sono venuti in Italia a tutti i rappresentanti dell'ingegneria mondiale. Nel 1968 Stanley Kubrick fece un film, Odissea nello spazio, un cult. In questo film, l'inizio di questo film è una scena memorabile, una scena di grande talento da parte del regista. C'è il primate, la scimmia, che alza un osso e in quel preciso momento il Kubrick fa vedere la consapevolezza. Quell'osso non è più un osso, è uno strumento, è uno strumento per modificare il mondo, per modificare l'ambiente. Allora è vero che la norma è uno strumento per modificare l'ambiente, ma i nostri strumenti sono l'intelligenza, sono l'ingegno. E allora noi, come tassello, dobbiamo utilizzare questi strumenti sia per arrivare a modificare le norme, e sappiamo quanto è complesso, sia per veramente modificare il nostro mondo, renderlo più sicuro e provare a lasciare un mondo migliore ai nostri figli e ai figli dei nostri figli. Ringrazio tutti e buon lavoro. Grazie. 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 Buongiorno a tutti. Ecco, è partita anche la presentazione, quindi siamo salvi. Bene, allora, buongiorno. Oggi è sabato, quindi un po' vediamo pure di rilassarci e forse di dire qualcosa che non è molto noto a tutti. Un paio di anni fa il Presidente Sessa decise di sviluppare il settore dei materiali innovativi connessi con l'uscita pure delle nuove norme che erano in avanzata fase di redazione e pensò di prendere due soggetti che vengono dalla linea del fronte, come chiamo io. Cioè, infatti, sia io che il mio collaboratore proveniamo dalla linea del fronte, cioè da quelli che le cose una volta tentavano di farle. e in particolare consentitemi di ringraziare il mio principale collaboratore che è l'ingegnere calvanese che sta lì in prima fila, che prego di alzarsi in piedi perché molte cose che dirò sono dovute a lui, che peraltro è di Salerno, quindi vediamo che questa partecipazione salernitana è molto elevata e molto importante. Bene, materiali innovativi. Insieme col Presidente Zambrano abbiamo pensato di inserire nella presentazione delle nuove norme questo capitolo dei materiali innovativi che sarà anche sviluppato da altri relatori nel corso della mattinata, che sono tutti relatori che con me portano avanti questa battaglia per l'utilizzo il più corretto possibile di questo tipo di materiali. Brevissimo cenno. I materiali innovativi nell'edilizia provengono da altri settori dell'ingegneria, della produzione. Ad esempio il carbonio, come sapete, proviene dal settore aeronautico, dall'automotive e comunque sono materiali estremamente performanti, ma che per l'applicazione nel settore edile, nel settore delle costruzioni, presenta una serie di problemi che andremo piano piano a esprimere. presenterò rapidamente delle tipologie diverse anche da un punto di vista procedimentale. Cioè collegandomi con le norme che poi presenterò, presenterò dei materiali che sono già certificati, gli FRP, cioè fibre di carbonio in matrice polimerica, poi presenterò dei materiali che sono in avanzata fase di redazione per ciò che riguarda le linee guida sia di progettazione che di qualificazione, tipo gli FRCM e CRM. poi farò un accenno alle barre che sono anche queste in avanzatissima fase di procedura di attivazione della qualificazione, barre in fibra di carbonio e in fibra di vetro, i calcestruzzi fibrorinforzati che finalmente siamo riusciti di recente ad ottenere la prima autorizzazione formale all'utilizzo e poi mi sia consentito perché ho fatto da poco un altro intervento di questo genere, un po' per sognare, vi presenterò due materiali che stiamo anche questi procedendo con la qualificazione che sono i calcestruzzi geopolimerici e elementi compositi in pasta di legno, cioè diciamo il cartone per dirlo brutale. Bene, le nuove norme del 2018 prevedono sostanzialmente la possibilità di poter utilizzare dei materiali non tradizionali con una serie di procedure di qualificazione sia del materiale sia per ciò che riguarda il discorso delle linee guida per la progettazione, cioè che non sono previste all'interno di queste norme tecniche. Cioè in pratica questi materiali per poterli utilizzare, se non rientrano nei materiali descritti nella norma, possono essere utilizzati con delle norme tecniche aggiuntive che via via vengono pubblicate. Al momento, ad esempio, quella che è pubblicata è relativa agli FRP e nei prossimi mesi uscirà quasi certamente la norma di progettazione per gli FRCM, che sarebbero questi materiali misti con utilizzo di malte. Richiamo un attimo, e questo per ciò che riguarda la filiera di progettisti, direttori dei lavori e collaudatori, che i materiali per uso strutturale possono essere solo di tre tipi. O sono materiali che sono marcati CE, cioè quelli che noi siamo abituati normalmente ad utilizzare, a parlo di acciaio, calcio e struzzo, tutte quelle cose abbastanza classiche, oppure sono materiali che non è disponibile a una norma europea armonizzata, che però è invece prevista la qualificazione con modalità che sono inserite all'interno di questo comparto delle norme tecniche. Quali sono queste procedure? Ci sono due possibilità. Una, che è una procedura per ottenere la valutazione tecnica europea, l'ETA, cioè l'European Technical Assessment, oppure si può proseguire una procedura di qualificazione nazionale per ottenere quello che oggi è il CIT, Certificato di Donità Tecnica, che adesso con le nuove norme si chiama invece Certificato di Valutazione Tecnica. Per ciò che riguarda le procedure europee, il professor Occhiuzzi dell'ITC CNR di Milano vi rappresenterà quali sono i sistemi dei procedure e a quale livello siamo arrivati per ciò che riguarda questo tipo di procedure di qualificazione. Vado rapidamente avanti. Quella che è già stata definita come settore di materiali è la linea guida per gli FRP. Gli FRP sono divisi in due, si articolano in materiali, sistemi preformati, che sono quelle lamine che avete visto in giro a qualche parte, poi ve le specificherò un pochino meglio, che sono incollate con delle resine sul supporto da consolidare. E poi esistono gli impregnati in situ, cioè sono dei tessuti che poi vengono o preimpregnati o impregnati direttamente in sede di installazione in cantiere e costituiscono quindi un kit, un elemento di rinforzo che viene applicato sulla struttura da rinforzare. Al momento lo sforzo che è stato fatto dal nostro settore di normazione è stato quello di praticamente di incasellare questi materiali nello stesso sistema con cui sono incasellati i materiali tradizionali, tipo l'acciaio. Cioè, vedete, ci sono identificati delle classi per le fibre di vetro, delle classi per le fibre di carbonio e una classe delle fibre aramidiche. Sostanzialmente sono dei Kevlar per i preformati. Per gli impregnati in situ, dato che i tessuti sono un pochino più standardizzabili, abbiamo tessuti in fibra di vetro, tessuti in fibra di carbonio, tessuti in aramide. Una parola su questo tipo di prodotto da dirla. Questa è una cosa tipica del sistema Italia. Noi siamo i principali e i migliori produttori di questi materiali in tutto il mondo e di fatto, fino a poco tempo fa, in Italia non potevano essere utilizzati perché non esisteva questo comparto di norme. Quindi, diciamo, sono molto soddisfatto di poter essere arrivato rapidamente alla possibilità di utilizzo corretto di questi materiali. Qui rappresento come si usano dei sistemi impregnati in situ, cioè sono questi rotoli di materiale di tessuto di fibra di carbonio. Normalmente, le procedure di qualificazione prevedono l'inserimento di un primer sul primo strato di supporto da dover consolidare, poi si sistema il tessuto e le retine di incollaggio. La lamina sono lamine rigide che però possono essere incollate abbastanza facilmente sul supporto e poter quindi essere successivamente incollate e le finite con le retine di incollaggio. Che succede? richiamo subito l'attenzione. Questo tipo di materiali se anche sono estremamente performanti in laboratorio o come materiali in sé per sé sono vincolati a delle difficoltà di installazione molto molto elevate. Pensiamo sempre al fatto che sono materiali che nascono per un utilizzo in atmosfera controllata. Mi riferisco per esempio ai pezzi degli aerei. Chiunque di voi ha volato su un Airbus 380 sa che l'Airbus oggi può volare perché è fatto di fibre di carbonio ma i pezzi dell'Airbus sono realizzati in un'atmosfera controllata. Quando lo stesso tipo di materiale lo utilizziamo invece in cantiere chiaramente ci sono dei problemi di installazione molto molto elevati. A questo proposito vi faccio vedere quella che è una scheda tecnica classica di certificati già emessi dove questi certificati che una volta erano intesi come solo delle DOP cioè delle dichiarazioni di prestazioni insieme al materiale abbiamo pensato di tagliarli per essere indirizzati a tutta la filiera. Quindi mi riferisco a progettisti direttori dei lavori e collaudatori. Vedete per esempio questa è una tipologia di una scheda tecnica di un preformato oltre le caratteristiche diciamo geometriche viene fornito all'inizio la classe di quel tipo di materiale a cui il progettista si deve riferire esattamente come se fosse l'acciaio. Dopodiché all'interno ci sono alcune cose che vengono richiamate all'attenzione ad esempio la temperatura di transizione vetrosa. Questo parametro è assolutamente fondamentale perché è il momento in cui il grado di temperatura a cui la resina inizia a essere plastica non è più appunto vetrosa e quindi cambia la resistenza meccanica dell'intero supporto. Andiamo avanti poi ci sono la norma prevede la messa a punto di proprietà meccaniche caratteristiche che sono connesse con i risultati delle prove di laboratorio che però non dovranno essere utilizzate questo infatti lo spieghiamo nel certificato dal progettista perché sono delle grandezze caratteristiche che servono solo a qualificare il materiale ma non a dire esattamente che quel numeretto può essere inserito nei calcoli. Idem un'altra scheda tecnica per ciò che riguarda i formati in situ e sono all'incirca lo stesso tipo di caratteristiche a questo punto per esempio vedo che abbiamo indicato anche le temperature limiti minima e massima di utilizzo questo sempre per richiamare l'attenzione di tutti i nostri colleghi che questi sistemi vanno molto bene sono molto performanti però hanno delle grosse limitazioni di utilizzo anche per esempio solo collegate con la temperatura e a questo mi ricollego un po' al ragionamento che è stato fatto prima dal collega sul concetto di durabilità questi materiali sono collegati con una durabilità ben precisa tant'è vero che nonostante il fatto che noi facciamo delle prove di invecchiamento sia in ambiente alcalino che in ambiente salino e a mille ore o a tremila ore a seconda delle procedure sono comunque materiali che hanno una durabilità ben precisa cioè non sono infiniti come si poteva pensare a questo punto abbiamo inserito anche una serie di prescrizioni per ciò che riguarda l'installazione controllo accettazione in cantiere in particolare mi richiamo al fatto che il fornitore o l'installatore in particolare è tenuto a rilasciare una dichiarazione di perfetta installazione rispetto alle norme che sono previste in manuale installazione quindi a stringere avvertenze per tutti i tecnici nel senso che tenete bene in conto le limitazioni di uso di questo tipo di materiali vado avanti molto rapidamente perché le cose da dire poi sarebbero infinite però passa la mattinata dunque andiamo avanti risolto l'FRP perché diciamo è un materiale che ormai è codificato sia come linee di progettazione che per ciò che riguarda l'utilizzo siamo arrivati addirittura ad arrivo per gli FRCM che sono praticamente questi materiali queste reti inserite all'interno di Malte dal mondo sia produttivo che dal mondo dei colleghi siamo stati diciamo un po' ci hanno tirato le orecchie per ciò che riguarda i tempi di uscita di questo tipo di norme ma io non è che voglio difendere la categoria o il ministero voglio però dire una cosa da un punto di vista proprio concettuale far fare un'evoluzione culturale da quelle che abbiamo visto in giro di una rete da pollo incollata e attaccata con i codi da carpintiere su una facciata con lo spritz e beton sopra e arrivare ad un FRCM il passaggio è notevole allora quando noi in particolare nei cantieri del cratere sismico dobbiamo spingere per far utilizzare questo tipo di materiali io penso che un minimo di attenzione è necessario e quindi forse il tempo che stiamo impiegando per tirare fuori questo tipo di normativa avrà sicuramente dei risultati positivi ai fini della normazione dell'utilizzo di questo materiale che sicuramente nelle fasi di consolidamento di una struttura peraltro interessata da un andamento sismico hanno sicuramente delle grosse possibilità però utilizzate con molto criterio e controllate in particolare con molto criterio vado avanti anche qui un po' rapidamente gli FRCM saranno normati con lo stesso sistema degli FRP ci saranno proprietà geometriche del materiale e le proprietà meccaniche che vengono definite all'interno delle schede tecniche di prodotto poi altri relatori vi rappresenteranno nel dettaglio a che conclusioni siamo arrivati torno un attimo indietro questo è una tipica installazione di un FRCM in particolare mi sembra che sia una rete tipo PBO ma insomma più o meno il tipo di materiale sono molto simili chiaramente sono molto diverse a secondo della tipologia delle prestazioni collegati agli FRCM c'è un altro settore che vengono definiti CRM che sono sostanzialmente più o meno lo stesso tipo di kit di materiali di rinforzo però dato che hanno delle performance e delle realizzazioni delle compatibilità diverse in particolare per ciò che riguarda la grandezza della maglia della rete che viene installata in particolare per il consolidamento di elementi verticali tipo pilastri e avranno una norma a parte e quindi anche questa uscirà a brevissimo perché siamo in avanzatissima fase di realizzazione passiamo ad un ulteriore settore anche questo sempre informativo poi tutti i dettagli se volete qualcuno che è interessato ne possiamo parlare direttamente barre in fibra di carbonio e fibre di vetro allora dovete sapere che in Italia siamo i principali produttori di questo tipo di materiale in particolare le fibre di vetro uno dei principali produttori è proprio in zona di Salerno e praticamente fornisce i principali cantieri in particolare ad esempio di galleria di metropolitana del mondo e va a finire che è lo stesso problema di cui dicevo prima in Italia è un tipo di materiale che non si può usare almeno non è qualificato non è certificato per l'utilizzo di questi materiali abbiamo pensato di attivare parallelamente alle procedure di livello italiano come ho detto prima delle procedure di qualificazione di livello europeo sul qualcosa il professor Rocchiuzzi e l'ITC vi dirà molto più nel dettaglio e peraltro questa cosa vi volevo dire che è tipica anche questa del sistema Italia cioè alla fine quando gli enti si mettono d'accordo e praticamente pensate che noi come Consiglio Superiore abbiamo fatto un protocollo di intesa con l'ITC CNR ben prima dell'uscita del decreto legislativo 106 dell'anno scorso che prevede l'istituzione dell'ITAB cioè quest'ente unico nazionale di qualificazione e insieme siamo riusciti a ottenere dei risultati insperati sia sul piano procedimentale pensate che dopo anni siamo riusciti a far nominare segretaria generale del Technical Board dell'EOTA che è l'organizzazione europea di qualificazione la European Organization for Technical Assessment è un'italiana che è un'architetta dell'ITC CNR bravissima eccetera che è stata nominata all'unanimità da tutti i paesi membri segretaria del Technical Board anche in questo vi dico per ciò che riguarda le barre di carbonio stiamo ottenendo dei risultati assolutamente confortanti e anche su questo a breve vedrete che usciranno la qualificazione di questo tipo di materiali sia a livello nazionale che a livello europeo pure qui corro abbastanza rapidamente nel dettaglio poi avrete altri approfondimenti e sono relativi che in pratica questo tipo di materiali avrà delle caratteristiche sia in termini tensionali in termini di durabilità resistenza d'utilità eccetera che sono chiaramente estremamente variabili però vi dico che ci sono dei risultati incredibili tipo ad esempio per ciò che riguarda le fibre di vetro mi sto facendo vedere come queste fibre che realizzano ad esempio delle staffe ad anello chiuso si ottengono dei risultati in termini tizionali veramente eccezionali e peraltro consentono di risolvere dei problemi estremamente complessi ad esempio nei conci da galleria perché riusciamo a fare delle armature che poi nei conci ad esempio provvisori possono essere molto facilmente fresati da DBM oppure in ambienti estremamente aggressivi dove questo tipo di barre non vengono aggredite da agenti alcalini in ambiente marino ad esempio e quindi o ad esempio sulle metropolitane dove i marciapiedi delle metropolitane sono molto attaccati dalle correnti calvaniche con questo tipo di materiali il problema viene azzerato di fatto anche qui vado un po' avanti e procedo con il calcestruzzo fibrolinforzato devo dire questo è un grosso risultato che anche pensavamo dubitavamo di arrivarci abbiamo dato da poco la prima autorizzazione formale in Italia all'utilizzo dei calcestruzzi fibrolinforzati che per chi non è molto addentro sono dei calcestruzzi dove vengono inseriti nell'impasto delle piccole mollette di acciaio che adesso abbiamo iniziato ad autorizzare dei conci misti cioè che c'è una parte di fibra metallica parliamo di 40 kg al metro cubo più un'armatura lenta tradizionale che risolvono tantissimi problemi tipo relativi alle microfessurazioni e comunque ha una possibilità di utilizzo molto più semplice delle parti soggette a corrosione abbiamo fatto le prove al vivo anche su questo vado rapidissimo avanti a questo punto due flash rapidissimi su due materiali dell'ultima ora che sono il calcestruzzo geopolimerico e questi elementi compositi in cartone e pasta di legno il calcestruzzo geopolimerico rappresenterà un'innovazione fondamentale nel tutto l'apparato delle costruzioni trattiamo di elementi che si trovano molto facilmente in natura peraltro sono anche materiali che sono peraltro materiali di scarto sono ottenuti per un processo che si chiama geopolimerizzazione che è una reazione chimica divisa in fasi che si realizza a temperatura ambiente senza solventi senza liquidi tra dei precursori silico-alluminosi e dei silicati di alcalini tipo alcalitato potassico e altre cose è un materiale incredibile io quando sono andato a vedere le prove l'ho giudicato veramente molto interessante c'ha questa microporosità che si chiama mesoporosità dove che ne so le molecole d'acqua non passano passano le molecole d'aria ha delle performance in termini di caratteristiche meccaniche molto molto elevate pensate che siamo arrivati dopo 56 giorni a 120 megapascallo o a 130 a seconda delle diverse tipologie di accoppiamento e anche questo un piccolo accenno sempre sul sistema Italia uno degli sviluppatori di questo materiale aveva un contratto d'esclusiva già firmato con un'azienda russa molto grande che sviluppa stampanti 3D per la produzione di elementi prefabbricati e siamo riusciti a bloccarlo prima che firmasse questo contratto in esclusiva se no era un altro italiano che andava all'estero e chiudeva il rapporto con l'Italia rapidissimo elementi composti in cartone che può sembrare una battuta invece partendo dalle esperienze molto avanzate fatte da vari ricercatori giapponesi ci sono stati dei produttori italiani che tanto per fare un esempio banale sono l'interno quelli tipo del Domopac che opportunamente resinati danno delle ottime caratteristiche adesso sono in prova presso l'Università di Roma ci hanno presentato delle proposte molto interessanti di qualificazione di questi materiali che sono separati in diverse tipologie che vanno dal materiali incoerenti a materiali con le fibre orientate o materiali con fibre verticali orizzontali io direi che può bastare perché se no poi tediamo l'uditorio grazie grazie e chiamo il professor Vincenzo Piluso dell'Università di Salerno il nuovo quadro normativo per le strutture in acciaio chiedo anche ai relatori di orientarsi sui 15 minuti poi vi è avviso ma possiamo sforare fino a 20 intanto che caricano la presentazione mi ha fatto molto piacere l'ultima slide con il riferimento a uno dei giganti dell'architettura e dell'ingegneria mondiale Siger Uban e vista anche la relazione sulle strutture in acciaio come dire l'esperienza giapponese anche di Katsuyo Sejima con la snellezza dei pilastri in acciaio che in Italia non si possono fare può essere come dire un passaggio di palla prego ringrazio il chairman per la presentazione io mi sono attenuto per quanto riguarda il tema di questa mia breve presentazione al tema principale della giornata che è quello dell'aggiornamento delle norme tecniche è importante sottolineare come in realtà è già stato fatto all'inizio di questa giornata che si tratta semplicemente di un aggiornamento e non di nuove norme tecniche per cui sicuramente non ci sono non c'è alcuna rivoluzione dal punto di vista culturale cosa che peraltro è stata sottolineata ieri anche dal collega Edoardo Cosenza che ha evidenziato come la vera rivoluzione dal punto di vista culturale dal punto di vista normativo è avvenuta in realtà con le norme tecniche del 2008 quindi qui si tratta di un semplice aggiornamento si parlava prima di nuovi materiali e l'acciaio certamente non è un materiale innovativo perché esiste da tantissimi anni però consentitemi di suggerire a tutti i progettisti presenti in sala di cercare di utilizzarlo molto più spesso di quando non si faccia attualmente oggi in Italia io in verità da qualche giorno sono tornato da Christchurch in Nuova Zelanda dove sono stato per il convegno internazionale sulle costruzioni in acciaio in zona sismica ed io stesso sono rimasto impressionato per quella che in realtà è lì in effetti una rivoluzione culturale perché sapete che la Nuova Zelanda è la patria di parche e poli quindi è la patria delle strutture sismo resistenti in cemento armato ebbene nella patria di parche e poli dopo il terremoto del 2010 tenete presente che a Christchurch hanno dovuto demolire 1500 edifici ebbene per la ricostruzione il 90% degli edifici realizzati sono adesso realizzati in acciaio tra l'altro utilizzando delle tecnologie dal punto di vista delle tipologie strutturali impiegate estremamente moderne addirittura tipologie come i sistemi cosiddetti con rocking e ricentraggio che non sono codificate né in Italia né in Europa né in alcuna parte del mondo e questo è anche un altro aspetto che forse meriterebbe una riflessione perché riporta in qualche modo la figura dell'ingegnere come elemento centrale nel processo di progettazione di costruzione dell'opera e quindi la possibilità di realizzare anche tipologie strutturali non normate a condizione che ci sia qualcuno che abbia il coraggio la voglia e la possibilità di prendersi la responsabilità delle proprie azioni ma detto questo vado sul tema della giornata in realtà il capitolo la parte che riguarda le costruzioni in acciaio sono sostanzialmente il 4-2 che è la parte generale quella di tipo non sismico e poi il corrispondente paragrafo nel capitolo 7 dedicato alla sismica in verità vi anticipo che non ci sono delle grandi variazioni quindi sono poco significative quindi per questo motivo inteso da un lato sottolineare quelle poche novità che la normativa presenta e poi da qualche e poi mi sono soffermato su qualche punto di debolezza che in vero è nella norma ma non perché sia un difetto in sé della nostra normativa perché è una norma che sostanzialmente porta in sé come dire i pregi e i difetti degli eurocodici eurocodici che attualmente sono comunque in corso di discussione di riesame e quindi se ci sarà una nuova rivoluzione dal punto di vista culturale probabilmente dal punto di vista normativo questa probabilmente si avrà nel momento in cui sarà stato completato il quadro degli eurocodici niente passando ad esaminare in dettaglio il documento la prima cosa che si nota è che è stato aggiunto il riferimento alle N1090 per quanto riguarda gli aspetti legati all'esecuzione delle strutture in cemento armato riferimento che prima non era presente un'altra piccola differenza apparentemente di modesta importanza è quella dell'introduzione del riferimento alla parte 1.4 dell'eurocodice 3 per quanto riguarda gli acciai inossidabili quindi questo è importante perché prima l'impiego degli acciai inossidabili non era contemplato nell'NTC del 2008 poi per quanto riguarda le saldature anche qui non ci sono modifiche sostanziali è stato aggiunto il riferimento alla norma UNIEN ISO 2560 per quanto riguarda gli elettrodi da impiegare nella saldatura d'arco per quanto riguarda invece la classificazione delle sezioni e qui non ci sono differenze rispetto alle NTC 2008 però consentitemi di osservare che l'unica differenza in realtà riguarda l'impiego del termine rotazioni anziché l'impiego del termine curvature e questa è una giusta correzione rispetto alle NTC 2008 perché ovviamente la capacità rotazionale che è la misura della tuttilità locale è legata alla capacità di rotazione plastica delle sezioni e quindi è in realtà una misura della tuttilità della membratura e non della sezione quindi è giusto riferirsi alle rotazioni piuttosto che alle curvature però la definizione che viene riportata in normativa è diciamo impropria perché le condizioni ultime vengono definite con riferimento al raggiungimento della deformazione ultima del materiale questo in realtà è scorretto perché la capacità di rotazione plastica delle membrature in acciaio in realtà è strettamente legata ai fenomeni di instabilità locale delle piatta bande compresse e poi eventualmente dell'anima perché per compatibilità cinematica segue l'instabilità della flancia della flancia compressa quindi in realtà va sottolineato che nella letteratura internazionale si utilizza dappertutto si utilizza una definizione diversa delle condizioni ultime cioè in buona sostanza si può far riferimento o alla cosiddetta parte stabile della capacità rotazionale che è quella misurata dal rapporto fra la rotazione che viene attinta nel momento in cui viene raggiunta la massima resistenza flessionale della sezione e la rotazione allo snervamento oppure la capacità rotazionale totale che è quella che si verifica quando la rotazione quando si raggiunge un livello di rotazione plastica per cui la resistenza adimensionale scende di nuovo al di sotto dell'unità quindi è la massima capacità di sopportare delle deformazioni in campo plastico senza apprezzabili riduzioni di resistenza e limite di resistenza di fatti al momento plastico della sezione così come nella definizione della capacità resistenti delle sezioni mentre per il metodo elastico e il metodo plastico è chiaro che non ci sono da fare particolari commenti il metodo elastico lo conosciamo tutti quanti dalla scienza delle costruzioni quindi ci si limita a valutare il modulo W del modulo elastico e moltiplicando per la tensione di snervamento ovviamente si ottiene la resistenza è chiaro che questo si può fare fin tanto che le sezioni sono di prima seconda e terza classe per le sezioni di quarta classe bisogna portare in conto gli effetti di stabilità locale mediante il metodo dell'ampiezza efficace il metodo plastico ovviamente può essere utilizzato per le sezioni di prima e di seconda classe che hanno dei rapporti B su T sufficientemente piccoli da consentire lo sviluppo dell'intero momento plastico della sezione quello che è imprecisamente riportato nella normativa è riferimento al metodo elastoplastico dove si dice che il metodo può applicarsi a qualsiasi tipo di sezione il che chiaramente non è vero nessuno di noi farebbe un'analisi elastoplastica con sezioni per esempio di quarta classe quindi andrebbe precisato qui che il metodo elastoplastico si può utilizzare eventualmente a condizione però che il progettista sia in grado di portare in conto i fenomeni di instabilità locale in campo elastoplastico mediante il metodo dell'ampiezza efficace mediante formulazioni che tengono conto dell'instabilità in campo elastoplastico come ad esempio le formulazioni di Stawel ma qui la norma dovrebbe fornire eventualmente delle significative integrazioni per consentire questo tipo di analisi la stessa problematica la si riscontra nel caso nella parte della normativa che fa riferimento ai metodi di analisi globale dove ancora una volta c'è la distinzione fra metodo elastico metodo plastico e metodo elastoplastico e ancora una volta si dice nel metodo elastoplastico applicabile a strutture composte da sezioni di classe qualsiasi ma anche qui dobbiamo dire che questo non è corretto perché per le sezioni di quarta classe certamente uno non andrebbe a fare un'analisi di questo tipo e nemmeno per sezioni di terza classe perché bisognerebbe utilizzare dei modelli che poi possono essere a plasticità concentrata o a plasticità diffusa che portano in conto i fenomeni di instabilità locale sia in campo elastico oppure in campo elastoplastico a seconda dei rapporti di ampiezza spessore per quanto riguarda la torsione nulla è cambiato rispetto alla norma precedente va fatto solo il commento che la norma è sotto certi aspetti un po' monca perché nulla si dice circa il calcolo di TRD del momento torcente resistente indicazioni invece a tal riguardo vengono riportate nell'Eurocodice 3 per quanto riguarda le membrature inflessi e compresse si deve fare anche qui riferimento di fatto all'Eurocodice 3 perché la norma si limite a parlare di bisogno utilizzare norme di comprovata affidabilità mentre per quanto riguarda la stabilità dei pannelli la norma avrebbe dovuto riportare il riferimento alla parte 1.5 dell'Eurocodice 3 è stata aggiunta qualche cosa per quanto riguarda la verifica a fatica in pratica è stata aggiunta la parte riguardante la verifica fatica illimitata e la verifica a danneggiamento con il riferimento alla ben nota formulazione di Palm Green e Miner sull'accumulazione lineare della fatica plastica ma anche qui in effetti la norma è un po' monca nel senso che è indispensabile ancora una volta fare riferimento all'Eurocodice 3 perché nel momento in cui mancano le famose curve di fatica relativa ai diversi dettagli costruttivi è chiaro che il documento normativo così com'è non è autosufficiente ed è quindi necessario andare a prendere la parte 1.9 dell'Eurocodice 3 per poter effettuare le opportune verifiche per quanto riguarda gli spostamenti laterali che quindi il controllo della rigidezza laterale e la struttura anche qui non ci sono variazioni rispetto alla norma del 2008 in questo caso è secondo me necessario evidenziare un disallineamento fra quanto è riportato nel capitolo 4 e quanto è riportato nel capitolo 7 della parte di sismica perché nel capitolo 4 il drift limite è indicato indipendentemente dalla tipologia dei tompagni mentre invece nel capitolo 7 giustamente i valori limite del drift sono differenziati a seconda della natura degli elementi di facciata quindi è questo un disallineamento che a mio avviso andrebbe corretto poi sono state aggiunte qui si tratta in realtà più che di variazioni io parlerei di integrazioni cose che prima non erano presenti nell'NTC 2008 e che quindi il progettista era costretto ad andare a ricercare in altri documenti normativi come in particolare l'Eurocodice 3 per esempio è stata inserita tutta la parte riguardante il controllo del serraggio dei bulloni come è noto i bulloni ad alta resistenza vengono precaritati con una coppia di serraggio che deve garantire un precarico nel bullone pari al 70% della resistenza ultima e la coppia di serraggio poi dipende dal diametro del bullone e dagli attriti tra i vari filetti della filettatura e bisogna utilizzare il fattore K che viene indicato nelle targhette di confezionamento dei bulloni questi per poterli serrare correttamente è stata ancora la norma integrata anche con le indicazioni per quanto riguarda il coefficiente di attrito quindi qui parlerei ripeto di integrazioni più che di novità perché sono tutte cose che poi il progettista potrebbe tranquillamente andare a trarre dall'Eurocodice 3 per quanto riguarda la resistenza delle unioni saldate la verifica delle saldature a cordoni d'angolo in pratica è stata integrata con la limitazione per quanto riguarda la sigma ortogonale questa è la verifica che viene effettuata con la sezione di gola nella sua effettiva posizione importante però sottolineare che la norma italiana a differenza dell'Eurocodice consente di effettuare le verifiche dei cordoni di saldatura sia tenendo conto della sezione di gola nella sua effettiva posizione sia della sezione di gola ribaltata su uno dei due piani che per noi italiani è molto più comodo perché fa riferimento alla prassi più tradizionale in Italia che risaliva già alle vecchie norme del CNR per quanto riguarda il capitolo 7 delle azioni sismiche e qui c'è una importante novità che in verità riguarda non solo l'acciaio ma tutti i materiali da costruzione e cioè che è stata aggiunta questa tabella 731 che riguarda il coefficiente di diciamo alcune limitazioni del coefficiente di struttura e secondo me quello che va ha sottolineato è che anche per lo stato limite per la verifica allo stato limite di danno in linea teorica è stata consentita la possibilità di utilizzare un coefficiente di struttura superiore all'unità si può arrivare fino ad 1 ad 1,5 tuttavia questa questa possibilità secondo me crea al tempo stesso una sorta di incongruenza interna nel documento normativo perché se facciamo ad esempio riferimento agli edifici a carattere residenziale per i quali il coefficiente C con U della destinazione d'uso è pari ad 1 quindi la vita di riferimento della struttura coincide con la vita nominale che è 50 anni quando si va a vedere là il periodo di ritorno corrispondente allo stato limite di danno di fatto viene 50,3 anni questo con la probabilità di eccedenza del 63% quindi in 50 anni ha periodo di ritorno di 50,3 e quindi è prossimo praticamente coincidente a quel valore 50 anni che è il periodo di ritorno che viene utilizzato nell'altro capitolo il capitolo 2 quando si parla delle azioni sulle costruzioni in particolare con riferimento al vento se vi andate a vedere il capitolo della normativa sulle azioni da vento scoprite che lì la velocità di riferimento viene stabilita della velocità di riferimento per l'azione del vento viene stabilita con un periodo di ritorno di 50 anni allora dov'è l'inconcurenza l'inconcurenza sta evidentemente nel fatto che laddove il progettista dovesse utilizzare un coefficiente di struttura pari a 1,5 per lo stato limite di danno vuol dire di fatto che sta ammettendo delle plasticizzazioni seppur modeste sotto il sisma di servizio quando a parità di periodo di ritorno invece per il vento si progetta la struttura affinché la stessa rimanga in campo elastico quindi questa a mio avviso è una contraddizione nel documento nel documento normativo per il resto non ci sono altre variazioni e quindi questo è il commento che facevo prima sul su questa su questa possibilità di impiegare il fattore q1 e 5 per lo stato limite di danno per quanto riguarda i coefficienti di struttura delle tipologie strutturali fondamentali non c'è di fatto alcuna variazione e qui mi preme sottolineare il fatto che classi di utilità alta classi di utilità bassa c'è questa incongruenza che i coefficienti di struttura sia nel caso dei controventi concentrici che nel caso delle strutture intelaiate con tamponature sono uguali ma queste sono cose che peraltro si stanno già discutendo in ambito in ambito CEN nel CEN TC 250 SC8 il VG2 che è il working group che è dedicato alla revisione dell'eurocodice 8 parte acciaio per cui ripeto sono quelle piccole imperfezioni che in realtà sono ereditate dagli eurocodici un problema molto importante per le strutture in acciaio è quello del parametro teta che è legato agli effetti delle non linearità geometriche anche qui forse non è il caso di andare visti i tempi ristretti tanto in dettaglio perché anche questo parametro è attualmente oggetto di un'ampia discussione nell'ambito del CEN TC 250 SC8 VG2 perché questo è molto limitativo non solo perché questo è molto limitativo per le strutture in acciaio ma è perché in effetti questo parametro teta così come è concepito non tiene conto per esempio degli effetti benefici dell'incrudimento non tiene conto della sovraresistenza della struttura non tiene conto del fatto che l'intero come dire l'intero valore del fattore di struttura non viene spesso non viene spesso sfruttato e quindi le domande di spostamento in campo plastico sono più ridotte rispetto a quelle che porterebbero al collasso tutti i problemi che nel caso del cemento armato non si percepiscono essendo le strutture in cemento armato tendenzialmente più rigide mentre problemi che diventano di fondamentale importanza quando si va a fare il controllo degli spostamenti delle strutture intelaiate in acciaio ultima cosa le verifiche di rigidezza la formulazione è un po' cambiata rispetto all'NTC del 2008 gli spostamenti calcolati con l'analisi elastica vanno amplificati per il coefficiente di struttura e poi confrontati con i valori limite dell'ispostamento e qui bisogna fare secondo me molta attenzione nella lettura del documento normativo sarebbe stato a mio avviso opportuno utilizzare una simbologia differenziata per sottolineare che cosa sottolineare che questa prescrizione normativa va vista tenendo ben presente la tabella 731 che menzionavo prima perché il coefficiente di struttura che va in queste formulazioni evidentemente deve essere il coefficiente di struttura riferito allo stato limite di danno quindi quel numeretto che dicevo prima il progettista può scegliere fra 1 e 1 e 5 altrimenti queste prescrizioni non funzionerebbero perché se io moltiplico per il coefficiente di struttura riferito allo stato limite di danno lo spostamento elastico calcolato con lo spettro con riferimento allo spettro corrispondente appunto una probabilità di eccedenza del 63% in VR anni soltanto in questo modo calcolo correttamente quello che è lo spostamento sotto il sisma di servizio se erroneamente vado a utilizzare il coefficiente di struttura quello dell'ordine di grandezza di 4 5 dipendentemente che dipende dalla tipologia strutturale che viene utilizzato per le verifiche allo stato limite ultimo commetterei qui l'errore di calcolare degli spostamenti molto più grandi di quelli riferiti allo stato limite di servizio piccole modifiche hanno riguardato il gamma ovico il coefficiente di sovraresistenza immagino che questo è stato fatto sulla base dei risultati di un recente progetto europeo Opus per cui ci sono maggiori dati a disposizione sulle dispersioni delle proprietà meccaniche dei materiali e concludo dicendo che per quanto riguarda invece i criteri di gerarchia di fatto non sono state non ci sono delle novità per cui non mi vado a soffermare sulle critiche che si potrebbero fare perché ripeto sono in realtà ereditate dall'Eurocodice 8 tutte problematiche che sono attualmente in discussione in questo working group del CEN di cui tra l'altro faccio parte quindi sarà certamente quella l'occasione di far valere le queste eventuali osservazioni fermo restando che con molti colleghi stranieri è difficile alle volte ragionare visto che l'input del CEN in realtà va più verso la semplificazione che non verso le variazioni semplici l'idea non è tanto quella di variare l'Eurocodice quanto quella di portare quanto più possibile delle semplificazioni però come diceva un saggio le norme non dovrebbero essere le norme devono essere as simple as possible not simplest grazie 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 professor Piluso adesso il professor Andrea Prota della Federico Secondo che tra l'altro è anche appartenente alla nostra famiglia degli ordini perché Andrea è il segretario dell'ordine degli ingegneri di Napoli con la sua relazione consolidamento strutturale con materiali innovativi regole di progettazione tra l'altro stanno arrivando tantissimi messaggi dai collegamenti in streaming per anche che chiedono di mettere a disposizione le presentazioni dei relatori e poi attraverso l'ordine di Salerno e il sito del consiglio nazionale metteremo a disposizione le presentazioni ci sei Andrea? sì ci sono prego ti avviso ogni tanto ti faccio così quando sei a 20 ho il cronometro quindi c'è una garanzia dei 20 minuti buongiorno a tutti grazie anche da parte mia per l'invito e per aver organizzato questo segmento di giornata sui materiali innovativi io cercherò di stare nel titolo della presentazione che mi è stato affidato e tratterò con riferimento a quanto ha molto esaustivamente già trattato l'amico Ievolella i materiali FRP e FRCM quindi materiali compositi a matrice resinosa o inorganica e ovviamente farò riferimento alle regole di progettazione che non hanno subito praticamente variazioni con l'aggiornamento delle norme tecniche e che continuano ad essere prevalentemente quelle per quanto riguarda i compositi FRP contenuti nelle istruzioni CNR di T200 che hanno subito un aggiornamento nel 2013 e che furono anche già recepite sotto forma di linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che vedete nella parte di destra della slide quindi diciamo non avendo sostanziali modifiche delle regole di progettazione in questa breve presentazione io farò una brevissima carrellata sulle possibili applicazioni che a mio giudizio vedono i compositi essere molto interessanti in applicazioni compatibili con le norme tecniche e poi cercherò di fare un riferimento fino alla tipologia diciamo alla categoria di interventi che si possono fare con i compositi secondo le norme tecniche allora parto dalle strutture murarie sarà una carrellata rapida ricca di foto perché la tempistica è quella che è diciamo che se seguendo un po' l'ordine della circolare che dà delle categorie per le costruzioni in muratura sugli interventi che si possono fare certamente i compositi sono molto interessanti nel caso degli incatenamenti cioè tutti quei casi in cui andiamo a conferire alla struttura muraria un comportamento scatolare in questo caso cito la possibilità di realizzare tiranti in composito vedete qui un'applicazione fatta a Campanile del Carmine a Napoli vedete queste lamelle in fibra di vedo prodotte proprio in provincia di Salerno da un grande produttore a cui faceva riferimento anche l'amico Iavolella quindi la possibilità di usare queste catene che chiaramente richiedono anche tutta una tecnologia per l'afferraggio e che danno oltre alla grande resistenza meccanica il grande vantaggio della non corrosività che soprattutto in ambienti aperti prossimi al mare come questo è molto interessante oppure incatenamenti un po' più classici quelli nei quali andiamo a collegare i solai alle murature qui vedete un esempio tratto da un documento ReLuis in cui abbiamo messo giù tutta una serie di disegni esecutivi per gli interventi sulle strutture murari e qui per esempio il caso in cui si cerca di agganciare le travi di un solaio alle murature tramite una fioccatura con materiale composito o comunque con l'uso di compositi vedete quest'altro esempio oppure le cinturazioni che spesso oggi vengono realizzate con compositi sia FRP che FRCM questo è un esempio sappiamo che l'efficacia della cordolatura è ben nota tant'è vero che quando si costruiscono strutture ex novo in muratura oggi è obbligatorio realizzare dei cordoli di piano quando questi cordoli non ci sono sono sufficienti ed è complicato lavorare dall'interno i compositi forniscono un'interessante opportunità per queste cinturazioni diciamo perimetrali che poi possono essere più efficaci tramite questi sistemi questi ancoraggi che più comunemente si chiamano fiocchi che possono diciamo chiaramente essere poi sovrapposti per tener conto delle grandi dimensioni al volto dell'edificio oppure ancora fa parte dell'incatenamento il collegamento nei cantonali o nei martelli murari che in precedenza io ricordo anche durante il terremoto dell'80 in questa regione si fece grande abuso delle perforazioni armate con barre in acciaio che poi hanno di cui sto vedendo effetti disastrosi dovuti alla corrosione in molti edifici c'è una possibilità di realizzarle in modalità innovativa con compositi qui vedete uno schema in pianta e qui vedete un esempio di questi sistemi che fondamentalmente sono alla fine sono come un micropalo fatto nella muratura che non è altro che un tubicino in questo caso in fibra di carbonio che poi una volta iniettato diciamo diventa un vero e proprio collegamento molto efficace quando abbiamo diciamo sovrapposizione delle pietre carenti oppure applicazioni diciamo dei compositi sono molto interessanti sui sistemi in muratura curvi come per esempio le volte si è passati in una certa epoca all'uso di FRP qui vedete per esempio l'uso di fibre di carbonio con resine in altri sistemi come questo ha i sistemi un po' più moderni che sono gli FRCM che sono queste reti sottili che sostanzialmente realizzano un intorno agarmato avanzato cioè spessore ridotto con materiale altamente resistente non corrosivo e con malte che ormai spesso sono malte a reazione pozzolanica quindi non cementizie qui vedete ne vedete un esempio ancora seguendo questa categorizzazione della circolare che mi aiuta a dare un ordine logico l'uso di questi materiali innovativi per conferire in modo diffuso resistenza a trazione alle murature sappiamo che è una cosa molto necessaria e in questo senso direi che oggi i FRCM sono certamente una soluzione molto molto interessante ed efficace provata anche in vari laboratori italiani e del mondo in questo caso si va a realizzare una lastra di spessore ridotto parliamo di spessori diciamo al di sotto di un paio di centimetri quindi che non modificano la rigidezza elastica dei muri fanno sì che non sia necessario andare a realizzare poi ringrossi in fondazione per scaricare nuove forze ottenendo però grandi benefici in termini di resistenza e d'utilità oggi questo parlando di regole di progettazione lo progettiamo visti i dati che sono comunque poveri per poter sviluppare modelli specifici utilizzando un'analogia con quanto già si fa per l'intono agarmato classico sappiamo che la circolare contiene una tabella che ci fornisce dei coefficienti amplificativi delle caratteristiche della muratura nel caso di intorno agarmato quello fatto con rete metallica e spritzbeton diciamo l'elaborazione dei dati sperimentali consente di dare anche per gli FRCM dei coefficienti che si possono usare nei calcoli andando ancora avanti verso la conclusione della parte muratura interventi su pilassi qui vi faccio vedere un pilastro molto degradato che può essere confinato con gli FRCM state notando un uso prevalentemente degli FRCM per le murature perché chiaramente l'uso della malta li rende particolarmente favorevoli e compatibili con le murature e direi anche accoppiate a reti che abbiano basso modulo perché le rendono quindi meccanicamente compatibili con il supporto murario passando invece alle costruzioni in cemento armato in questa proprio flash che riesco a fare in questo poco tempo in generale qui cerco di fare un ragionamento differendomi a un grafico che ormai è ben noto a chi si occupa di costruzioni esistenti in cemento armato questa è una tipica curva che noi diciamo di push over sappiamo che oggi bisogna tendere per le strutture esistenti possibilmente ad analisi non lineari che consentono di mettere in luce tutte le risorse che la struttura ha e di progettare poi interventi avanzati allora questa è una tipica curva taglio sull'asse delle ordinate spostamento sull'asse delle ascisse questa è una curva diciamo tipo cosa succede normalmente quando andiamo ad esaminare una struttura in cemento armato non progettata sismicamente questa curva non si riesce a sviluppare tutta quindi dall'analisi che io faccio a un certo punto mi fermo per esempio dove c'è questo questo pallino rosso e normalmente mi fermo questa è la mia esperienza ma quella che si vede anche nei terremoti perché i punti più deboli che vanno tipicamente in crisi sono i nodi esterni non confinati nei quali sappiamo che non sono state disposte staffe che oggi invece sono obbligatorie questo accoppiato al fatto che spesso il calcestruzzo ha caratteristiche basse e diciamo anche alla presenza a volte di dettagli di armatura come gli uncini che spingono fuori i copriferri fa sì che praticamente la risposta sia limitata da questo tipo di crisi se io riuscissi ad eliminare questo tipo di crisi che con i compositi posso eliminare riesco a salire un po' più su su questa curva e tipicamente quello che mi blocca è l'attivazione invece di rotture fragili che sono tipicamente dovute a pilastro travi tozze anche qui questo è dovuto alla resistenza del calcestruzzo bassa e anche a staffature che chiaramente non sono quelle che oggi disponiamo qui vedete un classico caso di un pilastro di una scala pilastro tozzo io ricordo che il tozzo diciamo tipicamente è dovuto a una luce piccola di un elemento ma è tozzo anche per esempio un pilastro che ha un'altezza pare a quella di interpiano ma una sezione rettangolare allungata e quindi assorbe molto taglio in una direzione se io riuscissi ad eliminare questi tipi di crisi normalmente riesco a sviluppare quella che noi chiamiamo tutta la capacità deformativa globale della struttura e quindi questa curva la riesco a portare vedete molto più avanti non solo in termini di resistenza ma soprattutto in termini di capacità di spostamento guardo al target di spostamento diciamo che dovrei garantire se volessi adeguare la struttura e quindi devo comunque lavorare ancora su quelle che si chiamano le cerniere plastiche per far sì che questo punto celeste che vedete qua scavalca la soglia che ho come obiettivo ovviamente questo è proprio per dirla molto in breve tutto ciò lo posso fare con i compositi e lo posso fare facendo delle verifiche che si fanno normalmente a seguito di un'analisi strutturale per esempio sui nodi vi ricordo che per i nodi le norme tecniche prevedono una verifica delle tensioni principali di trazione e compressione fondamentalmente andando a disporre sul pannello di nodo ben ancorato un rinforzo in composito andiamo ad aumentare la resistenza a trazione quindi lavoriamo su questa sigma ci sono formule disponibili per calcolare queste quindi andiamo a prevenire quindi a mettere fuori causa un meccanismo fragile lavorando in questa ottica di gerarchia delle resistenze che pervade ormai la nostra progettazione in zona sismica per i rinforzi a taglio anche qui c'è una formulazione molto semplice questa è la formula del CNR in cui fondamentalmente si aggiunge un termine che quindi incrementa la resistenza a taglio e questo termine dipende dalla quantità di FRP della sua geometria e infine il confinamento dei pilastri anche questo un intervento in cui i compositi FRP ma direi in futuro anche FRCM direi per adesso FRP per il cemento armato sono già ben validati e diciamo ci consentono certamente un incremento di resistenza ma soprattutto di duttilità questo lo voglio dire facendo riferimento a un diagramma sforzo normale momento flettente in cui vedete che la curva blu è la curva relativa ad un pilastro originario solo con staff e la curva rossa è quella con staff con FRP cosa fa vedere questo diagramma che per bassi livelli di sforzo normale normalmente al di sotto lo sforzo normale qui sull'asse delle ordinate quindi al di sotto di sforzi normali diciamo tipici dei pilastri il beneficio dell'FRP non si vede sulla resistenza mentre lo si vede se io avessi sforzi normali molto elevati quindi per dirla in breve se ho pilastri molto sovraccaricati in termini di sforzo normale il confinamento con l'FRP mi dà beneficio sia in termini di resistenza che in termini di duttilità per pilastri che sono quelli tipici dei nostri edifici anche dei ponti sto al di sotto di queste soglie e quindi fondamentalmente l'intervento con FRP mi dà un beneficio primario in termini di duttilità e questo lo si calcola secondo la norma CNR praticamente andando a incrementare nei calcoli il valore base della deformazione ultima del calcio estruzzo che è il 3,5 per mille questo valore viene incrementato di una certa quantità che dipende da quella che noi chiamiamo pressione efficace di confinamento quindi il legame costitutivo convenzionale che normalmente è quello nero il sigma epsilon del calcio estruzzo si allunga lo possiamo allungare di una quantità che chiaramente si calcola perché sappiamo che poi questo valore qui incrementato dà dei benefici in termini di curvature e poi capacità rotazionale delle cosiddette cennere plastiche dove si inquadrano questi interventi all'interno nelle norme qui prenderò 2-3 minuti perché lo trovo un punto cruciale qui vedete un estratto del punto 8-3 nella versione aggiornata ho messo in un riquadro un concetto che è certamente nuovo in questo aggiornamento cioè c'è una definizione esplicita di cosa è la valutazione della sicurezza di una struttura esistente la norma ci dice che è un procedimento quantitativo ma soprattutto quello che mi interessa qui rileggere con voi perché vorrei fare un commento è che questa norma ci dice ora che l'incremento del livello di sicurezza si persegue essenzialmente operando sulla concezione strutturale globale poi dice con interventi anche locali cioè l'NTC dicono ora esplicitamente una cosa che è molto importante da ricordare cioè lavorando sull'eliminazione dei meccanismi locali ho prima parlato per esempio dei rinforzi dei nodi piuttosto che dei meccanismi fragili del cemento armato piuttosto che delle cinturazioni delle strutture murarie per prevenire i ribaltamenti quindi i meccanismi di collasso quindi tramite interventi locali che sono quelli che tipicamente facciamo con gli FRP che per loro natura per spessore che hanno e per tipologia di intervento non vanno a modificare le rigidezze elastiche degli elementi quindi non vanno a modificare la distribuzione delle forze sismiche sulla struttura quindi sono interventi locali tramite interventi locali la norma ce lo dice chiaramente si può andare a intervenire sulla concezione strutturale globale della struttura quindi questo è qualcosa di sottile che poi diciamo mi porta a chiedermi e a chiedere diciamo a fare una domanda allora qual è la categoria di interventi nei quali tipicamente ricadono questi interventi qui certamente in generale sono quelli che la norma chiama riparazione o intervento locale che ora vi ricordo sono stati traslati al punto primo diventano 841 nell'aggiornamento delle norme che sono proprio quegli interventi la norma lo dice che migliorano le caratteristiche di resistenza di utilità di elementi o parti anche non danneggiate un'aggiunta importante che è stata chiarita qui nella norma si dice che nel caso di interventi di rafforzamento locale che sono i tipici interventi sui nodi di confinamento di cordolatura eccetera volte a migliorare le caratteristiche meccaniche anche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale appunto crisi di nodi crisi fragili ribaltamenti delle murature è necessario la norma dice valutare l'incremento del livello di sicurezza locale cioè va fatto un calcolo locale sull'elemento sul meccanismo dimostrando che l'intervento dà un beneficio un beneficio locale ovviamente quando si fa questo tipo di intervento non è richiesta l'analisi globale della struttura quindi un qualcosa che non piace spesso è quello che facendo un intervento locale non si misura il livello di sicurezza globale prima e dopo l'intervento d'altra parte però sappiamo che se si fa bene un intervento locale quell'intervento locale l'ho fatto vedere nella slide precedente lavora bene sulla concezione strutturale globale della struttura allora interventi locali quindi quelli che non richiedono per norma obbligatoriamente la valutazione globale della sicurezza oggi sono particolarmente interessanti nell'epoca del sisma bonus in un'epoca in cui anche per gli interventi sulle scuole ci stiamo cimentando tutti alla ricerca di interventi che si possono fare possibilmente lavorando sull'involucro dall'esterno o comunque con minimo impatto per gli abitanti che diventa un fattore cruciale per la realizzazione degli interventi e quindi ritengo che questa tipologia questa possibilità che la norma dà cioè di non dover obbligatoriamente fare il calcolo globale sia un'opportunità importante per sbloccare degli interventi ovviamente poi siamo qui in un contesto di ingegneri possiamo certamente dirci che la norma ci dice cosa è obbligatorio ma io ritengo che se si fa un intervento locale su una struttura in cemento armato rafforzando nodi pilastri o altro niente viete anzi io raccomanderei da ingegnere cercherei di convincere i proprietari che è la cosa più difficile e comunque è importante fare dei controlli sui materiali per esempio un minimo di carotaggio di indagini anche non distruttive così come non vedo perché non si possa comunque fare un'analisi globale fermo restando che non si ricade in tutti gli obblighi che invece sono previsti per il miglioramento e l'adeguamento sismico quando invece questi materiali sono usati nell'ambito di calcoli che poi prevedono l'analisi globale questi materiali possono anche invece dar luogo a miglioramento sismico cioè se ne può anche misurare globalmente l'impatto non ho tempo per farlo vedere per cui chiudo negli ultimi due minuti e mezzo che mi rimangono ricordandovi questo documento che è stato sviluppato dopo il terremoto dell'Abruzzo e che è scaricabile liberamente dal sito Reluis che riguarda specificamente interventi con FRP da cui ho estratto prima alcune immagini e in questi pochi minuti che mi rimangono farò una piccola carrellata di esempi applicativi tratti da progetti di interventi di rinforzo con FRCM o FRP su strutture murarie o cemento armato questo è il caso di una struttura in muratura in cui è stato applicato è stato previsto in progetto un intervento di FRCM su tutte su tutte le murature esterne e poi anche interne dell'edificio questo è un particolare di queste reti che vi ho fatto prima vedere applicate con Malte questo invece è un caso interessante in cui c'è questo verde e l'utilizzo di rete in FRCM rete in fibra di vetro con Malta mentre a livello di cordoli di piano vedete questi blu questi sono realizzati in GFRP però con resina epossidica quindi le cordolature sono in FRP questa armatura diffusa è fatta con FRCM chiudo invece con quest'altro esempio che anche mi sembra interessante in cui un collega ingegnere ha previsto un intervento in cui gli FRCM sono applicati sotto forma di strisce di fasce la forma che vedete dipende dal fatto che in alcuni casi questi sono messi per incrementare la resistenza presso flessione dei maschi murari in casi come questi questi maschi qui invece le diagonali servono per incrementare la resistenza a taglio della muratura se guardiamo invece al cemento armato questo è per esempio un esempio di intervento che noi chiamiamo locale sui nodi esterni non confinati di una struttura scolastica questo intervento è un intervento locale ma noi l'abbiamo fatto se si va a misurare con un calcolo globale il beneficio che un intervento di questo tipo dà a volte può dare interventi diciamo da benefici in termini di zida che è questo indicatore il livello di sicurezza molto significativi cioè in molti casi che abbiamo visto rafforzando i nodi esterni prevenendo i meccanismi locali si passa su queste strutture in cemento armato da zida tipo 0,2, 0,3 20, 30% tranquillamente a 0,6, 0,7 cioè 60, 70% e l'uso degli FRP che appunto non modificano la rigidezza laterale della struttura spesso però va accoppiato anche a interventi sulle tramezzature e le tamponature per evitare che queste si stacchino dalla struttura in cemento armato e anche su questo gli FRCM direi ci danno soluzioni interessanti vedete con queste fasce che consentono di fissare le tramezzature o le tamponature alle travi in cemento armato chiudo poi con qualche altra due o tre immagini di interventi globali di interventi su strutture questo per esempio è un intervento in cui si è previsto su tutti i nodi un intervento con FRP questo invece mi piace perché la combinazione di un intervento di ringrosso dei pilastri questi azzurri sono pilastri che sono diventati pilastri parete quindi dei setti ringrossati mentre sugli altri pilastri che sono questi rosa e relativi nodi si è previsto un intervento del tipo di quello che vedete a destra oppure altra applicazione molto diffusa in interventi di miglioramento sismico l'utilizzo dei controventi di cui vi ha parlato già il professor Piluso che però poi vedono il rinforzo delle zone nodali che è sempre necessario quando si fa un intervento con i controventi fatto con materiali FRP io qui mi fermo spero se il tuo cronometro coincidi in tempo grazie grazie Andrea sei stato nei tempi perfetti adesso Antonio Occhiuzzi del Consiglio Nazionale delle Ricerche procedure di qualificazione dei materiali innovativi la prospettiva internazionale si vede buongiorno a tutti questo intervento che io ho pensato molto leggero snello breve diciamo intende mettere il focus su un aspetto che viene considerato spesso di rilevanza minore nell'ambito della progettazione strutturale forse per alcuni aspetti lo è che però diciamo ancorché non centrale comporta per i protagonisti delle professioni tecniche delle conseguenze piuttosto rilevanti quindi ancorché non centrale dicevo probabilmente è opportuno mettere in rilievo e considerare nelle attività sia di progettazione che di direzione lavori che di collaudo vabbè questa copertina è quella del giorno ovviamente ce l'abbiamo sott'occhio tutti e sostanziale continuità con quanto era già previsto nelle precedenti norme tecniche perché il capitolo 11 è riferito alle prescrizioni sui materiali strutturali si tratta assolutamente di un aggiornamento quindi opera in perfetta continuità con quanto già era previsto dall'NTC 2008 però la novità in questo caso è come si dice nel combinato disposto di questo aggiornamento e nel frattempo nel decennio passato fra 2008 e 2018 nella entrata in vigore di provvedimenti differenti uno di carattere sovranazionale un regolamento europeo l'altro di carattere nazionale un decreto legislativo della scorsa estate che hanno dei riflessi fortissimi sulle responsabilità dei protagonisti delle professioni tecniche vabbè il concetto generale che per i materiali prodotti per uso strutturale devono rispondere a alcuni requisiti devono essere identificati devono essere qualificati devono essere accettati sono le tre operazioni standard che certamente non sono nuove sono previste nelle norme tecniche da decenni questo incipit del capitolo 11 cioè l'11.1 identifica tre famiglie di casi possibili per i materiali strutturali in termini di qualificazione individuazione e accettazione allora la prima famiglia sono materiali e prodotti per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se corredati dalla dichiarazione di prestazione dalla marcatura CE prevista al capo 2 del regolamento europeo allora mettiamo a fuoco questi termini che sono poco diffusi relativamente poco diffusi dichiarazione di prestazione marcatura CE regolamento UE 305 2011 quali sono i materiali da costruzione che appartengono a questa prima famiglia la gran parte nel caso per esempio di contestualizzazione al problema strutturale il cemento cioè la polvere adesiva che utilizziamo sia per la realizzazione delle malte che per la realizzazione del calcio estruzzo d'accordo quindi è evidente che non è possibile utilizzare cementi adesivo in polvere parlo che non recchino la marcatura CE e la dichiarazione di prestazione concetti che fra un attimo approfondiamo seconda famiglia materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata per i quali però sia prevista la qualificazione con le modalità delle procedure indicate nelle presenti norme stiamo parlando del calcio estruzzo e dell'acciaio in barre non ci sono norme europee armonizzate non ci sono apposta perché i 27 Stati dell'Unione non li vogliono armonizzare c'è una riserva c'è la necessità di steccati e recinti che non sono ancora stati superati e allora che cosa succede che le norme tecniche le vecchie le nuove per il calcio estruzzo lo sappiamo tutti ci raccontano tutto in che modo deve essere composto i requisiti che devono avere i componenti quali sono le modalità da rispettare nell'ambito della sua produzione sia in cantiere che nelle centrali di betonaggio che cosa deve fare il direttore dei lavori per accettarli in che modo vanno diciamo effettuate le prove i prelievi addirittura ci sono le istruzioni su che cosa il progettista delle strutture deve indicare nelle tavole riguardo le caratteristiche del calcio estruzzo quindi la seconda famiglia ha caratteristiche diciamo chiare la terza famiglia è quella che riguarda l'innovazione il progresso lo sviluppo materiali e prodotti per uso strutturali non ricadenti in una delle tipologie hobby quindi di che stiamo parlando stiamo parlando di materiali giovani che non sono ancora nella loro come dire maturità tale da aver permesso lo sviluppo di una normativa di prodotto condivisa a livello degli stati membri una norma europea armonizzata allora in tali casi il fabbricante questo è il termine usato nei documenti europei che correttamente viene trascritto nei nostri decreti ministeriali il fabbricante dovrà pervenire alla marcatura C.E. sulla base della pertinente valutazione tecnica europea di che stiamo parlando di quello che abbiamo sentito finora i compositi per le costruzioni d'accordo sono materiali prodotti che non ricadono né nel caso A non c'è una norma armonizzata né nel caso B non c'è un dettaglio nel decreto ministeriale su la loro qualificazione esiste oltre alla strada che essendo indicata per prima il legislatore ritiene come strada principale esiste un'alternativa nazionale la leggiamo proseguendo il testo oppure dovrà ottenere un certificato di valutazione tecnica rilasciato al presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici previ e istruttori al servizio tecnico centrale anche sulla base di linee guida approvate al consiglio superiore dei lavori pubblici quindi per l'innovazione per i materiali innovativi è necessario sostanzialmente comunque arrivare alla marcatura CE per una strada che è evidentemente diversa da quella standard delle norme armonizzate che non ci sono oppure esiste come dire il piano B il livello nazionale che è utilizzabile quando la prima strada evidentemente non è facilmente percorribile sono frasi scritte in italiano corrente sembrano chiarissime dietro però c'è un mondo che vorrei brevemente descrivere allora il primo dei concetti che abbiamo visto è il regolamento 305 2011 del Parlamento del Consiglio Europeo del 9 marzo 2011 in gergo si chiama CPR Construction Product Regulation che cosa è questo documento intanto che cos'è un regolamento europeo noi come professioni tecniche diciamo non sempre abbiamo le idee chiare su questo aspetto allora il regolamento europeo è un atto che non richiede un esplicito recepimento da parte degli stati membri dell'Unione è immediatamente esecutivo supera tutte le disposizioni nazionali eventualmente in contrasto che quindi decadono su questo diciamo gli stati membri si sono messi d'accordo hanno fatto un trattato quello di Roma di molti anni fa dice quando ci mettiamo d'accordo su un regolamento tutte le disposizioni nazionali eventualmente in contrasto decadono automaticamente quindi non c'è bisogno di recepirlo l'Italia però poi diciamo è un paese bizzarro e quindi dopo vediamo un aspetto particolare a che cosa intende che cosa intendeva fare intende tuttora fare questo regolamento europeo è finalizzato ad eliminare le barriere alla libera circolazione dei prodotti della costruzione nell'ambito dell'Unione quindi è un regolamento di natura commerciale che però poi ha dei riflessi sulle professioni tecniche e sulla progettazione strutturale in particolare si prefigge di arrivare allo scopo indicato fissando criteri di valutazione condivisi e universali universali ovviamente nell'ambito degli stati dell'Unione e ridefinisce questo è un punto fondamentale il concetto di marcatura CE nell'ambito specifico del concetto del settore delle costruzioni mi spiego meglio su questo aspetto in linea di principio la marcatura CE quindi i regolamenti europei che la disciplinano fanno riferimento alle caratteristiche di prodotti finiti pronti da proporre ai consumatori finali allora c'è il regolamento sui toy safety i giocattoli il regolamento su parotecnic articles i fugi d'artificio il regolamento sui lift gli ascensori i prodotti della costruzione invece sono elementi intermedi che vanno incorporati in un'opera contribuendo a definirne le caratteristiche quindi non sono prodotti destinati all'uso finale quindi la marcatura CE la qualificazione internazionale è speciale diversa da tutte le altre il concetto di sicurezza o interesse generale che poi è alla base della marcatura si applica ai prodotti da costruzione solo in relazione al loro grado di contribuire al soddisfacimento dei requisiti essenziali delle opere in cui sono incorporato perché un prodotto da costruzione non è sicuro o non sicuro di per sé non è che è idoneo o non è idoneo di per sé il concetto di sicurezza idoneità travalica le proprietà o le caratteristiche di prodotto il contributo al soddisfacimento delle opere dipende da come il prodotto è incorporato nelle opere da coloro che ne assumono le responsabilità quindi non esiste il prodotto buono o il prodotto cattivo nell'ambito della costruzione esiste un prodotto con delle caratteristiche e poi l'unico modo l'unico sistema l'unico mezzo per valutarne la bontà l'idoneità è utilizzare la testa d'accordo è il progettista l'elemento centrale che determina l'idoneità o meno di un prodotto da incorporare in una costruzione è il direttore dei lavori che verifica che il prodotto che effettivamente devi accettare in cantiere abbia prestazioni corrispondenti a quelle immaginate o pensate dal progettista per tradurre in pratica questi concetti bisogna poi fare riferimento e questo il regolamento europeo lo inquadra a due concetti di base si chiamano requisiti di base delle opere da costruzione caratteristiche essenziali dei prodotti questi sono altri due concetti che non sono comuni diciamo nella nostra vita quotidiana ma che prima o poi lo diventeranno che cosa sono i requisiti di base delle opere di costruzione buonsenso il regolamento europeo ne elenca 7 resistenza meccanica e stabilità sicurezza in caso di incendio in caso di incendio igiene salute e ambiente sicurezza e accessibilità nell'uso protezione contro il rumore risparmio energetico ritenzione del calore uso sostenibile delle risorse naturali quindi i prodotti a costruzione devono contribuire a questi requisiti base nel caso che ci interessa al requisito di base numero uno resistenza meccanica e stabilità come lo fanno attraverso le loro caratteristiche essenziali quindi l'obiettivo del CPR di questo regolamento non è definire la sicurezza dei prodotti ma assicurare che le informazioni relative alle loro prestazioni che prendono il nome di caratteristiche essenziali dei prodotti siano affidabili le informazioni devono essere affidabili in modo che i prodotti possano essere correttamente utilizzati per realizzare opere che rispondano ai requisiti di base fatta questa introduzione è evidente che la marcatura c'è dei prodotti a costruzioni ha un significato differente e unico rispetto a tutti gli altri settori produttivi la marcatura su un prodotto a costruzione attesta che le informazioni che lo accompagnano e che sono elencate in un formato standard condiviso a livello comunitario che prende il nome di dichiarazione di prestazione sono state ottenute in accordo con il regolamento e possono essere considerate accurate e affidabili questa è la marcatura c'è dei prodotti a costruzioni anche quelli strutturali vediamo che cosa non è la marcatura c'è non è sinonimo di qualità non rappresenta una condizione di sufficienza non rappresenta una idoneità all'uso non è niente di tutte queste cose però il capitolo 11 uno la richiede allora perché a che mi serve questo è l'altro elemento che è combinato disposto con l'aggiornamento del capitolo sui materiali delle norme tecniche sulle costruzioni del 2018 rende la vicenda abbastanza interessante abbiamo detto che un regolamento europeo non richiede un atto di recepimento da parte degli stati membri però l'unione non può introdurre sanzioni quindi diciamo l'Italia che è un paese un po' bizzarro ha sostanzialmente adottato il regolamento del 2011 ma in forma come dire molto leggera debole blanda perché non c'erano sanzioni il decreto 106 inquadra ci abbiamo messo sei anni è 2011 2017 il decreto quindi 106 2017 inquadra e contestualizza alla situazione nazionale il regolamento europeo e introduce un sistema di sanzioni che è significativo allora andiamo in sintesi diciamo quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata oppure conforme a una valutazione tecnico-europea rilasciata per quello stesso prodotto il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione e appone la marcatura quindi sostanzialmente dà l'equivalente di una informazione tecnica accurata e soprattutto misurata da un ente terzo questa dichiarazione di prestazione contiene delle prestazioni garantite dal fabbricato per il materiale prodotto sistema della costruzione cui progettista direttore dei lavori e collaboratori possono devono fare riferimento la marcatura assicura che questa dichiarazione di prestazione è redatta secondo le regole comunitarie quindi questa è la contestualizzazione nazionale al regolamento europeo naturalmente quando introduciamo il sistema di informazioni affidabili dobbiamo capire come funziona diciamo l'organizzazione prendiamo uno dei compositi che abbiamo visto prima che cosa si fa diciamo il primo elemento il primo prodotto lo si porta in laboratorio un laboratorio terzo evidentemente lo si prova se ne misurano alcune caratteristiche essenziali si mettono in ordine secondo un formato predefinito i valori misurati in laboratorio e si fa un bel rapporto di prova d'accordo che si chiama ETA valutazione tecnico europea non basta ovviamente perché quello vale per il primo per il prototipo che stanno mandando in laboratorio poi serve che il secondo il terzo il quarto il quinto il decimillesimo il milionesimo prodotto diciamo simile realizzato in stabilimento e messo sul mercato abbia prestazioni corrispondenti a quelle misurate quindi per arrivare alla marcatura c'è necessario introdurre un sistema di controllo della costanza di prestazione che garantisce con ragionevole probabilità che i successivi esemplari di quel prodotto abbiano le medesime prestazioni misurate esistono quindi dei sistemi che si chiamano VCP che sono più o meno sofisticati sulla scorta delle ipotetiche gravi conseguenze sulla sicurezza sulla salute e sull'ambiente corrispondenti al singolo prodotto da costruzione allora il decreto 106 comincia a assegnare poi le responsabilità e ci dice che il responsabilità del fabbricante individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione in relazione all'uso previsto del prodotto quindi se io ho un prodotto che ha una marcatura ci è per un certo uso per un altro uso quella marcatura non c'è carta straccia la marcatura vale per uno specifico uso tuttavia le amministrazioni competenti in Italia il governo possono obbligare di fatto i fabbricanti a indicare alcune prestazioni ritenute necessarie ripeto l'idea che ogni fabbricante dice il mio prodotto ha queste caratteristiche e sceglie lui quali dichiarare e quali non dichiarare nel contestualizzato la situazione italiana il legislatore ha ritenuto che invece attraverso un decreto interministeriale si possa costringere i produttori a dichiarare necessariamente una serie di caratteristiche dopodiché diciamo diventa più interessante credo per i presenti in sala quello che prevede il decreto legislativo in tema di senzioni allora il costruttore il direttore dei lavori il direttore dell'esecuzione e il colladatore che nell'ambito delle specifiche competenze utilizzi prodotti non conformi a quanto prescritto nel regolamento europeo è punito con la sanzione pecuniare da 4.000 a 24.000 euro che diventa l'arresto fino a sei mesi per prodotti ad uso strutturale e antincendio allora quando accettiamo in cantiere i materiali da costruzione forse è meglio che cominciamo a porre il problema di capire se sono accompagnati da una dichiarazione di prestazione e se hanno la marcatura CE perché comincia a diventare complicata la vicenda il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dal regolamento europeo è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 la metà del direttore dei lavori ma con l'arresto fino a tre mesi per i prodotti destinati a uso strutturale e a uso antincendio qui diciamo la questione si fa a mio avviso molto delicata il progettista se deve prescrivere prodotti conformi al regolamento europeo deve indicare questa conformità negli elaborati progettuali quindi nell'angolo in alto della tavola grafica nella relazione descrittiva nel capitolato speciale di appalto bisogna descrivere i prodotti come prescrive il regolamento europeo sui prodotti e costruzioni quindi vanno indicate le DOP se no tre mesi ma se io prendo una DOP e la metto in capitolato ho individuato un prodotto sto necessariamente individuando un prodotto non posso indicarne uno in astratto devo indicarne uno in concreto altrimenti violo il regolamento europeo e questo è in fortissima contraddizione almeno per le opere pubbliche col codice dei contratti pubblici naturalmente l'abbiamo visto prima il regolamento di carattere europeo abbrova istantaneamente le disposizioni contrarie nazionali quindi qua si solleva un tema importantissimo di mezzo fra vasi di ferro il vaso di coccio e il progettista non è il cronomi di palazzi ma è il progettista è diversa la questione allora il problema grave il problema grave è che occorre il decreto 106 in vigore dallo scorso agosto non è un'innovazione occorre prescrivere i materiali da costruzione tutti quelli da strutturali in particolare quelli antincendio in particolare che c'è l'arresto utilizzando i sistemi del regolamento europeo d'accordo quindi indicando DOP e marcatura CE è un problema serio che si sta ponendo e che esiste voglio chiudere questo intervento tornando un attimo diciamo al tema dei materiali innovativi perché abbiamo detto che le famiglie in cui vengono divisi i materiali strutturali sono tre sostanzialmente quella centrale la B è quella di calcestruzzo e barre di armatura che sono disciplinati dal decreto ministeriale quindi hanno una storia a sé poi sono materiali quelli più diciamo tradizionali che sono coperti a norme armonizzate per le quali è di default oggi di fatto nella stragrande maggioranza dei casi sono sempre accompagnati dalla marcatura CE invece il tema caldo è quello dell'innovazione allora dice se ho il materiale innovativo non ho la norma armonizzata che lo copre come faccio ad arrivare alla marcatura CE visto che in mancanza non lo posso utilizzare allora esiste una strada alternativa che si chiama certificazione volontaria perché in campi diversi dalla struttura dell'antincendio non è richiesta obbligatoriamente che passa per la definizione di documenti pre-normativi che però sono realizzati in tempi molto più brevi rispetto a quelli necessari ad arrivare alla definizione di una norma europea armonizzata questi documenti per la valutazione europea si chiamano EAD quindi le due sequenze sono in alto per i materiali tradizionali in basso per i materiali innovativi allora la specifica tecnica armonizzata viene sostanzialmente a ricoprire il ruolo di una norma l'ETA è in effetti un rapporto di prova che viene sviluppato una volta noto pronto l'EAD sul materiale innovativo da questo punto in poi le due strade coincidono perché si arriva alla dichiarazione di prestazione e alla marcatura CE la vera differenza è su chi può fare cosa allora per i materiali tradizionali la marcatura CE viene fatta da enti che si chiamano organismi notificati ce ne sono 70 in Italia sostanzialmente non è un vero problema per l'innovazione per i materiali innovativi invece lo Stato delega questa specifica funzione solo a pochissimi organismi si chiamano TAB Technical Assessment Body ce ne sono 44 in tutta Europa in Italia sostanzialmente ce ne sono stati storicamente tre il servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco col loro centro di studi ed esperienza l'Istituto Centrale per l'industrializzazione della tecnologia edilizia il CNR oggi il TCCNR da due anni dal novembre dall'autunno 2016 i TAB italiani hanno redatto un protocollo di intesa per cui diciamo hanno messo in comune hanno messo a sistema le rispettive competenze e hanno sviluppato un unico sistema di interfaccia con il mondo delle imprese e delle professioni e sempre il decreto 106 è addirittura previsto che dei tre technical assessment body italiani se ne faccia uno solo denominato organismo nazionale per la valutazione tecnica europea che dovrebbe vedere la luce entro la prossima primavera quindi questa è la situazione come dire normativa per l'innovazione nell'ambito delle costruzioni e in particolare delle strutture diciamo civili e industriali a questi riferimenti tutti gli interessati possono avere eventuali notizie aggiuntive vi ringrazio molto per l'attenzione grazie grazie Antonio e adesso Raffaele Nardone del consiglio nazionale dei geologi ecco Raffaele relazione geologica nella nuova norma anche per te Raffaele 15 minuti fino a 20 buongiorno a tutti intanto ringrazio per l'invito oggi per me è un momento importante parlare dei contenuti della relazione geologica in questo consesso dove ci sono probabilmente ingegneri perché segna un punto importante ci dà anche conferma insomma la nostra battaglia in consiglio superiore ai lavori pubblici per far comprendere che l'importanza del modello geologico all'interno della più complessa sistema della progettazione era un elemento fondamentale perché in una prima fase la relazione geologica veniva un po' stracciata dal contesto progettuale veniva vista come un elemento diciamo preliminare alla fase della progettazione quindi dopo una serie di interlocuzioni anche abbastanza spinte insomma siamo riusciti a far comprendere questo questo momento importante e quindi ringrazio anche il presidente Zambrano che direi vero ha sempre manifestato questa nostra questa importanza queste nostre istanze ma anche perché c'era questa questa apparente distanza tra quello che poi normalmente avviene nella professione dove il geologo dialoga sempre bene anzi si manifesta una maturità da parte delle professioni tecniche nel processo della progettazione e invece poi in alcuni consessi diventava difficile trasformare in norma e quindi recuperare questo bagaglio di esperienza maturato sul campo all'interno di una norma tecnica quindi diciamo che alla fine noi abbiamo espresso un parere favorevole ringraziamo anche il presidente Sessa perché siamo arrivati a trovare un punto equilibrio dove ovviamente il bene doveva prevalere sul meglio però permangono delle criticità dove una di queste criticità sono questa apparente dicotomia tra le indagini geologiche e le indagini geotecniche che a nostro avviso si poteva tranquillamente superare portando appunto anche nella norma come dicevo prima la corretta prassi che viene fatta però vuol dire che ci vuole ancora tempo anche su questo per affinare ragionamenti e anche trovare quel giusto equilibrio tra ambiti disciplinari diversi quindi come vi dicevo il capitolo 6 della parte diciamo della progettazione geotecnica all'interno della quale c'è una parte geologica stabilisce che la prima fase della progettazione è costituita dalla caratterizzazione e modellazione geologica del sito poi c'è la scelta del tipo di opera e di intervento e a seguire con la programmazione delle indagini geotecniche e a seguire c'è la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce poi continua con la definizione delle fasi e delle modalità costruttive la verifica della sicurezza delle prestazioni e la programmazione dell'attività di controllo e monitoraggio quindi abbiamo inserito che la prima fase della progettazione è questa a dire il vero per quanto mi riguarda la prima fase della progettazione doveva vedere un punto un'analisi preliminare del sito da tutte le parti specialistiche per le progettazioni specialistiche quindi dal punto di vista geologico geotecnico sismico idraulico cioè vediamo un momento di un'analisi di uno studio preliminare dell'area poi si arrivava ad una scelta dell'opera con la programmazione un momento unitario dove convergevano tutte le esigenze dei progettisti specialistici nella programmazione delle indagini l'esecuzione delle indagini e poi la fase delle relazioni specialistiche dove ogni progettista specialista andava a prendersi e utilizzava quelle indagini invece nel modo con cui viene stata fatta insomma in qualche modo ci sarà una doppia fase apparente perché poi nella realtà è difficile effettivamente che si manifesta però c'è una prima parte dove il geologo va su un sito a fare le indagini geologiche poi si definisce l'opera e ci sarà una seconda fase dove l'ingegnere o il geologo insomma ci sarà la fase delle indagini geotecniche quindi su uno stesso sito paradossalmente vanno due volte le macchine per fare i carotaggi e questo è quello che noi provavamo a farci capire forse non siamo stati bravi a far capire bene questo aspetto però diciamo che nel complesso la norma segna comunque un passo importante avanti un passo importante perché anche dal punto di vista geologico noi come categoria abbiamo chiesto ai colleghi di arrivare a creare una relazione geologica che potesse mettere sempre più a disposizione notizie e informazioni di dettaglio al progettista all'ingegnere con il quale poi deve scegliere la tipologia di opera quindi dopo una prima fase generale delle descrizioni sulla storia evolutiva dell'area per capire appunto gli assetti geologici nell'area la relazione geologica deve entrare nel vivo quindi entra più nel dettaglio a scala di opera ecco perché deve essere collegata all'opera perché deve seguire l'evoluzione dell'opera e deve parlare anche graficamente con lo stesso linguaggio del progettista cioè dobbiamo arrivare a definire il dettaglio della geologia alla stessa scala delle sezioni di progetto dell'opera stessa sempre nell'obiettivo di migliorare la sicurezza dell'opera e la qualità anche della della progettazione quindi l'area geologica deve definire la caratterizzazione la modellazione geologica del sito deve comprendere la ricostruzione dei caratteri litologici stratigrafici strutturali idrogeologici geomorfologici e più in generale di pericolosità geologica del territorio che vengono tutti sintetizzati all'interno di un modello geologico quindi già con questa definizione capiamo bene che non si parla più di formazioni geologiche di complessi di roccio di terra ma entriamo nella scala di dettaglio quindi parliamo di litologia di stratigrafia quindi poi vi faccio vedere gli esempi grafici poi la razza geologica viene anche collegata all'importanza dell'opera quindi in funzione del tipo di opera o dell'intervento e della complessità del contesto geologico in cui si inserisce l'opera andranno fatte delle specifiche indagini che saranno finalizzate a documentare il modello geologico quindi non possiamo pensare che il geologo deve arrivare a una scala di dettaglio tale da definire esattamente la stratigrafia in profondità sotto l'opera dei terreni senza poter effettuare delle indagini quindi abbiamo volutamente inserito questa deciduta queste specifiche indagini senza dire nel dettaglio che tipi di indagini se geologiche geotecniche e cose via in modo che il geologo possa definire bene tutte le indagini che servono per arrivare poi a definire questo modello geologico che deve essere sviluppato in modo da costituire un elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e definire poi il programma delle indagini geotecniche quindi qui viene fuori questa apparente criticità io dico apparente perché c'è un'esigenza di classificare di strutturare in diverse fasi un progetto ma di fatto nel momento in cui il geologo dialogando col progettista si definiscono le varie problematiche si definisce un piano delle indagini l'elemento importante è che tra i progettisti il geologo e tutte le altre figure che concorrono alla progettazione si può arrivare a un momento unitario delle indagini per poi eseguirle la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito deve essere esauramente esposta e commentata in una relazione geologica che è parte integrante del progetto tale relazione comprende sulla base di specifici rilievi e indagini quindi definiamo bene questo aspetto la identificazione delle formazioni presenti nel sito lo studio dei tipi litologici della struttura del sottosuolo e dei caratteri fisici degli ammassi definisce il modello geologico del sottosuolo illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici strutturali idrogeologici e geomorfologici nonché i conseguenti livelli delle pericolosità geologiche qui un'altra novità parliamo di pericolosità in una prima fase della norma si parlava della pericolosità geologica invece noi abbiamo introdotto tutte le pericolosità perché intorno all'opera mentre il progettista è abituato a ragionare a scala di opera quindi sul sito sul perimetro di compra dell'opera il geologo ha una lettura più generale del contesto in cui si va ad inserire l'opera quindi a scala di versante o anche nelle zone di pianura il geologo può individuare quegli elementi che possono costituire delle pericolosità che deve fornire poi al progettista affinché questo possa fare delle corrette razionali scelte di progettuali quindi la relazione geologica poi sarà corredata anche da elaborati grafici che devono arrivare a definire il dettaglio geologico che serve al progettista quindi se noi in base all'importanza dell'opera ovviamente ci saranno questi dovuti approfondimenti gli elaborati grafici da legare alla relazione geologica sono la carta della vingolistica geologica ambientale con ubicazione dell'opera quindi facendo sempre riferimento all'opera una carta geologica la carta geomorfologica una carta idrogeologica e lo schema della circolazione idrica sotterranea queste informazioni li troveremo poi nella circolare dove ci siamo cioè diciamo è chiusa in via in fase di approvazione e lì che abbiamo inserito abbiamo esplicitato meglio quei concetti che sono contenuti un po' più generici nella norma le sezioni geologiche un rapporto tecnico sulle indagini eseguite o consultate che sono state utilizzate per la modellazione geologica e poi lo schema o il modello geologico di dettaglio a scala dell'opera questo è un esempio di sezioni geologiche a scala di dettaglio dove potete vedere bene il livello di dettaglio che viene richiesto al geologo e che può servire al progettista per poi capire il tipo di fondazioni o le strutture da progettare per arrivare a questo livello di dettaglio per capire i passaggi laterali di facest di litologia in modo orizzontale in questo modo è necessario per forza che il geologo possa utilizzare delle indagini possa utilizzare dei carotaggi possa andare nel posto per fare i dovuti approfondimenti poi si arriva a un profilo litotecnico dove all'interno è un profilo sempre a scala dell'opera dove vengono inserite una serie di informazioni dalle informazioni idrogeologiche per capire i terreni che sono permeabili o impermeabili e quindi il problema con le falde le coperture e associare a questo schema geologico delle informazioni anche di caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni che poi ovviamente in una fase successiva anche nell'azione geotecnica vengono modellate e tirate fuori i modelli geotecnici in questo caso una galleria poi c'è una carta geomorfologica dove vengono inserite vengono individuate in questo caso c'è una frana di una frana va individuata una nicchia di distacco va delimitato il corpo di frana e va data anche indicazione sullo stato di attività di questa frana perché se abbiamo una frana qui esce quindi qui abbiamo una frana qui esce all'interno di questa grossa frana qui esce c'è una frana attiva che si è riattivata recentemente quindi va definita anche l'area della riattivazione in modo che anche qui devono essere tutte informazioni che poi possono servire con una scala di dettaglio ovviamente ci sono delle sezioni poi c'è una carta geolitologica anche qui oltre alle formazioni geologiche vengono inserite le informazioni dove c'è il corpo di frana ovviamente compare un terreno che non è un terreno imposto quindi ha sicuramente le stesse caratteristiche del terreno litologico del terreno circostante però ha un comportamento e un aspetto diverso poi ci sono le sezioni geologiche una sezione geologica lungo il profilo dell'asse stradale in questo caso dove vediamo vengono riportate sia le colonne di carota di sondaggio che i corpi di frana poi una sezione longitudinale del versante insomma in entrambi i casi abbiamo le due sezioni dove fanno vedere bene l'impatto sull'opera del corpo di frana una carta dell'ubbligazione delle indagini dove vengono inserite tutte le indagini eseguite e poi arriviamo alla parte della modellazione sismica sull'aspetto sismico diciamo che ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto l'effetto della risposta sismica locale si valuta mediante specifiche analisi e indaggi quindi la norma stabilisce che di fatto bisogna fare dell'analisi di risposta sismica locale solo in determinate condizioni stratigrafiche o se le proprietà dei terreni sono chiaramente riconducibili a quelli della tabella 3.2 si può approcciare con l'approccio semplificato questo è stato leggermente modificato nella nuova norma togliendo le VS30 e andando sulle velocità dei VS equivalenti però ci siamo resi conto che da un'eccezione era quasi diventata una norma fare l'approccio semplificato quindi quello che bisogna un ulteriore passo avanti che bisogna fare è proprio quello di arrivare a fare risposte sismiche locali e definire sempre di più il modello sismico del terreno a scala di opera quindi provare a distaccarci dall'approccio semplificato provare a distaccarci dall'approccio semplificato grazie per l'attenzione grazie Raffaele adesso giochiamo in casa il professor Massimo Mariani Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la sua relazione sul consolidamento strutturale degli edifici monumentali Massimo vuoi il cronometro o segui tu tranquillo grazie una mano io sono qua ah sì 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 ecco va bene aspetta prima di prima di gridare cosa succede buongiorno 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 a tutti allora l'enorme l'aggiornamento alle norme tecniche è arrivato siamo tutti felici uno strumento come sappiamo è da ieri che trattiamo passo per passo questo strumento uno strumento deterministico forte di regole forti di individuazioni di percorsi di individuazioni di percorsi per tutti ed è uno strumento che vale sia per per le strutture esistenti che per anzi prima delle strutture nuove che per quelle esistenti ecco io mi interesso da sempre tutti lo sanno di consolidamento restauro degli edifici consolidamento degli edifici quindi di strutture esistenti questo è un ambito difficile da affrontare anche le norme lo affrontano con il giusto impegno però è difficile c'è difficoltà nello stabilire qual è il rischio e qual è la sicurezza nell'esistente perché l'esistente è vario l'esistente è assolutamente come dire imprevedibile sotto l'aspetto della dinamismo sismico il comportamento dell'esistente è qualcosa di cambia cambia da edificio ad edificio in particolare le nostre strutture storiche di cui poi parlerò all'inizio ecco la mia intenzione è quella di usare questi 20 minuti per analizzare un pochino l'esistente arrivare poi agli edifici monumentali ma nello stesso tempo ecco diciamo riportarmi al concetto di dubbio affrontare queste norme per poter con le norme stesse avviare un percorso che è anche personale che è anche di carattere medico strutturale cioè noi siamo abbiamo un paziente davanti dobbiamo in qualche maniera utilizzare nostra percezione per capire il paziente quale patologia ci sta mostrando ecco allora vorrei parlare di sisma e di sisma e caos vorrei parlare di qualcosa che noi identifichiamo sempre in uno schema ecco vorrei che tutti noi arrivassimo ad avere di questo schema non questa certezza e comincerò con immagini molte facendo riferimento al passato e al presente e all'unicità del comportamento del sisma e quindi alla comprensione che le strutture sono comunque tutte vulnerabili parlo sempre delle strutture esistenti per il nuovo non ci sono problemi il problema è dell'esistente vecchio questa è l'immagine del di pescare del tronto è l'immagine di un disfacimento totale è l'immagine del terremoto del caos sono immagini che non hanno molto veicolato è l'immagine della indeterminazione queste sono frane verticali sono disgregazioni murarie non possiamo pensare che solo gli edifici poveri poi facciano questa fine fanno questa fine tutti gli edifici e allora qualche riflessione ci deve venire in questo senso cioè dire ma se questa è la situazione post-sismica questa è il 24 già era così poi è stato è andato fino al 24 di agosto fino al 30 di ottobre poi ci sono altri sismi fino a gennaio se questa è la situazione ma allora come facciamo a pensare che i nostri edifici sotto il sisma poi vivano i nostri concetti di schematizzazione fisica cioè momento flettente sforzo tagliante momento sforzo normale trazione compressione taglio ecco questo è il disfacimento le persone che sono rimaste vittime non hanno avuto il tempo di uscire perché perché le murature franavano verticalmente perché invadevano sia all'esterno cioè le strade che all'interno cioè concetti di piano non esistono da questo punto di vista ma dice questo è il disfacimento murario no questi sono i terremoti veri adesso andiamo avanti veloci perché altrimenti mi rubo tutto il tempo in questo allora questi sono i terremoti allora terremoto e caos adesso vorrei salterò un po' perché pensavo fosse più lungo il nostro il nostro intervento ecco allora questa è l'immagine Lewis di Amatrice prima del terremoto del 24 agosto chi poteva pensare che questa situazione poi dopo la prima scossa questa in cui edifici non alti due sole due sole catene in realtà non ci sono gibbosità c'è praticamente immagine sofferenza muraria ecco questa situazione poi fosse questa con lo stesso punto di riferimento di punto di riferimento dell'obiettivo ci dà questa questo punto di riferimento ce lo dà l'edificio in Caccio questo armato che poi crollò con i sismi come ha fatto vedere ieri Cosenza bene questa è l'immagine della disgregazione ci sono sì dei tetti ma come possiamo pensare quanto ha più influenzato quel tetto invece un effetto che è risultato disfattivo per tutti no questo è il corso l'immagine di Amatrice dopo il 24 6.5 il terremoto Arquata del Tronto ve lo faccio vedere il punto di riferimento è questa strada d'accesso questa è prima e questa è dopo il terremoto questa è prima e questa è dopo il terremoto quindi mi sembra che ci siano degli effetti così forti che tutti noi dovremmo cominciare a prendere in considerazione però vado avanti ancora adesso vado veloce questo è ancora Arquata Pescara l'abbiamo vista prima ci sono effetti anche di terreno prima c'era il nostro collega geologo che ci diceva appunto che ci sono effetti di terreni di deposizioni recenti che hanno in qualche maniera scombinato dal punto di vista della risposta sismica c'è un fosso qui che è inciso molto quindi diciamo che ci sono anche fattori che sono concomitanti però non è detto che questi fattori poi non siano presenti da altre parti i nostri abitati sono abitati spontanei e quindi nascono dovunque queste ancora e accumuli e accumuli prima e dopo ma allora guardate le è vero strutture povere ma per esempio le orditure dei tetti sembrano il gioco come dico sempre il gioco dello Shanghai si trovano le travi a terra che sono scombinate laddove invece sono stati consolidati si ritrova tutto intero ma si dà colpa al tutto intero pesante quando invece il tutto intero non pesante era così ma si dirà non erano legati non è vero l'immagine di Amatrice si fa capire che gli edifici erano legati avevano dei tiranti avevano cose eppure l'effetto finale è questo Castelluccio e questo è il Montevettore qui c'è la faglia famosa ecco Castelluccio tutto quello che state vedendo non esiste più è stato raso al suolo è stato cancellato perché tutto quello che vedete non c'è più perché non è stato recuperabile quindi si farà una ricostruzione una dislocazione non sappiamo però questo è il quanto guardate allora questa è una diapositiva che ritornerà questa è Norcia il 30 di agosto 6.5 magnitudo momento bene questa è Norcia da fuori dieci minuti dopo queste sono l'immagine delle polveri dei crolli questa è San Benedetto la Basilica San Francesco che ho consolidato io attualmente e queste sono l'immagine dei crolli crolli e frizioni delle murature dieci minuti dopo quindi questo è ciò che produce il terremoto alle nostre strutture quindi cominciamo a ragionare sul fatto che queste strutture accumulano un ricordo inevitabilmente i nostri le nostre deformazioni sono deformazioni plastiche di elastico non c'è nulla quindi quello che è accaduto viene registrato viene registrato in termini di materia nel proprio intimo cioè gli elementi tra di loro cominciano ad allontanarsi si parla sempre di vetustà ci sono gli intonaci l'ossigeno arriva poco quindi è un effetto di accumulo di memoria del danno che io poi ho definito isteresi nella metallurgia c'è nella meccanica c'è nella medicina c'è l'isteresi c'è anche nell'economia ma nel nostro campo non viene considerata l'isteresi e questi sono gli accelerogrammi accelerogrammi di Norcia del 30 di 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 agosto del 30 scusate di di ottobre e questa è l'accelerogramma orizzontale e questa è l'accelerogramma verticale a noi gli accelerogrammi risultano sempre questi graffi noi invece che cosa abbiamo fatto con il mio gruppo siamo andati a dilatare questi accelerogrammi l'abbiamo ampliati infatti questa è la dilatazione dell'accelerogramma e abbiamo sovrapposto le accelerazioni verticali con quelle orizzontali e questi sono 1,5 secondi dei 14 di ACME che sono stati assolutamente quelli disfattivi sono 1,5 secondi di quel terremoto di Norcia del 30 e queste sono le sovrapposizioni quindi c'è una sovrapposizione di impulsi qui cominciamo a ragionare su altri sistemi non più su accelerazioni che sono asincroni noi abbiamo una composizione del terremoto che non è questa ma è questa cioè è una sorta di è una sorta di caos è una sorta di composizione asincrona di come dire alterazioni ci sono movimenti definiti di 10 cm e andate e ritorno cioè il terreno si muove di 20 cm e andate e ritorno quindi questa è l'immagine e poi la cosa particolare è che questa immagine che io ho amplificato un secondo e mezzo è un'immagine che porta in sé altre immagini quindi è un frattale perché noi pensiamo sempre ad un graffio ma tra un graffio e l'altro noi abbiamo singhiozzi abbiamo un'alterazione se noi andassimo se avessimo degli strumenti ancora più potenti noi vedremmo che quel punto lì sarebbe ancora di singhiozzi successivi quindi il terremoto è l'immagine dell'imprevedibilità dell'impredicibilità e questa è l'immagine chiara di ciò che può avvenire in qualcosa che noi pensiamo che vada e torni c'è ancora un sistema di alterazione e di incertezza no? di impulsi che sono appunto quelli intermedi tra un andato e un ritorno di un impulso e questa è l'immagine che poi ho riportato sia in verticale che in orizzontale confronti i terremoti del passato dice ma sai Norcia è stato un terremoto particolarissimo ha devastato parliamo Norcia matrice questo dell'Italia centrale ultimo sono stati pensate sette terremoti non uno Norcia ne ha presi sette di cui uno proprio sotto di sé che è quello da 6 e 5 e poi ci sono stati quelli all'inizio del 24 agosto ecco queste sono una lista di terremoti io ho cominciato a studiare questi terremoti dal Friuli in poi però vi faccio vedere alcune immagini perché è importante Norcia 1859 già fu devastata questa è la sede comunale il campanile aveva retto 6.1 e però la basilica aveva anch'essa retto è stata ricomposta rimessa un po' in ordine questo per far capire poi che cosa è avvenuta adesso alla basilica i terremoti non sono tutti uguali ma è vero anche che vabbè Messina uguale c'è una frana sottomarina c'è un maremoto però guardiamo le immagini sono le stesse identiche alle nostre disfacimento totale guardate questa è una è la chiesa che è stata completamente distrutta ma distrutta vuol dire vuol dire disgregata non è più una distruzione questa non c'è più un'identità di struttura ma siamo ritornati agli elementi singoli componenti della struttura questo ci deve far riflettere non c'è nei nostri terremoti disfattivi non c'è un elemento murario che si ritrova a terra si ritrovano tutti gli elementi si ritrova la malta si ritrova l'elemento lapide o l'elemento laterizio si ritrovano tutti gli elementi originari e questo ci deve fare riflettere la marsica del 30 30.000 morti 2015 anzi ecco quindi 30.000 morti questa è l'immagine della marsica identica alle nostre immagini che abbiamo visto scopie c'era c'era Tito il governo di Tito questa è anche una chiesa un edificio monumentale però se ne aveva poco di queste immagini però guardate a terra poi c'era il calcestruzzo armato belice 68 400 persone vittime questa è l'immagine del belice identica alle nostre poi qui vedete queste sono città ormai finite non più esistenti però questa fu ha fatto ha fatto storia per questo pianoforte la strada è stata dovuta si è riaperta la strada con con delle ruspe che hanno riaperto la strada questa immagine di Friuli identica stessa immagine il terremoto è uguale da nord a sud in ogni caso disfattivo Irpinia ancora e poi termino guardate questa è un'immagine bellissima di Irpinia in cui ho fatto un confronto tra questo è Sant'Angelo e questa che è Arquata del Tronto è praticamente stessa identica cosa sembra sembra una valga l'altra allora l'Aquila e ancora 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 l'Aquila eccetera 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 allora ma a un certo punto entriamo nell'argomento ma a un certo punto questa è una parte di cinta muraria di Norcia che è stata disgregata come vedete aveva una spinta dietro ma la spinta praticamente si è annullata in quanto il terreno è rimasto verticale ma al di là di questo si è vero ha dato impulsi ma al di là di questo è comunque un effetto di franamento frontale 4 metri di spessore costruita nel 1400 ed oggi quanti terremoti ha preso eppure oggi è stata distrutta questa è l'immagine della chiesa vista da dietro è l'altarino di San Francesco ecco vedete si è disgregato la parte esterna della chiesa ed è franata queste sono immagini di edifici che non hanno subito effetti di come dire di taglio dovuti alle masse superiori ma si sono disgregati hanno raggiunto il loro livello di esteresi per cui hanno aperto questi sono strappi ma strappi dovuti all'attrazione quindi all'affranamento beh insomma qualche riflessione dobbiamo fare allora se ritorniamo a questa immagine noi vediamo che questa immagine di Amatrice potrebbe essere l'immagine di qualsiasi nostra città non vi dico dov'è ma poi qualcuno lo riconoscerà questa è l'immagine della nostra città ma la cosa più importante e quindi questi edifici sono forse anche più incerti di quelli di Amatrice che abbiamo visto all'inizio perché sono più incerti perché hanno delle gibbosità i tetti sono già vallati ma vediamo questo guardiamo qui questo edificio ormai non si mette più l'intonico edificio che ha delle cicatrici da terremoto reali ma i terremoti si dimenticano dopo 4-5 anni si dimenticano queste sono cicatrici da terremoto poi c'è stata una soprelevazione qui c'è un contraforte perché evidentemente c'era uno spanciamento frontale e quindi hanno deciso di fare un'opera di contrafortamento frontale con delle murature diverse ma insomma queste cose sono figlie di un e allora di una storia che noi dimentichiamo allora questi meccanismi di collasso qui che è quelli che affrontiamo e che andiamo a modellare li vogliamo in qualche maniera anche interpretare quando capita cioè lì questi sono i meccanismi di collasso che sono sono divulgati no? bene allora andiamo a questi questi sono interpretazioni di collasso va bene sono i meccanismi d'accordo ma la domanda che ci dobbiamo fare è se quello è il meccanismo a me basta basta come dire contrappormi al meccanismo di collasso c'è un ribaltamento basta che io metta una sorta di ancoraggio una sorta di fasciatura perché ho risolto il problema oppure all'interno della muratura ormai c'è un accumulo del danno dell'avvenuto e quindi dovrei interessarmi anche di questo nelle linee guida dell'Italia centrale del comitato tecnico scientifico al quale appartengo stiamo mettendo questi effetti cioè l'effetto della disgregazione l'effetto dell'indagine all'interno cioè la motivazione di un'indagine anche all'interno della muratura per capire com'è anche per il danno lieve è fondamentale il danno lieve è la parte più vulnerabile della nostra indagine basta una lesioncina bene il danno lieve basterebbe andare lì e fare uno scuce e cuci e andare via e no andiamo a capire cos'è e quindi la parte più debole queste sono le immagini di questi meccanismi di collasso voi li vedete li interpretiamo ma poi alla fin fine che cosa diciamo di questo meccanismo che quello basterebbe solo forse andare su quest'angolo e andare a risolvere il problema dell'angolo non mi pare che siano queste le condizioni avendo visto l'altro avendo visto l'altro adesso salto a questo vediamo un po' se qui ho un'altra cosa da farvi ecco questo qua ma allora se noi parliamo questo non voglio fare indagini analisi di questo tipo ma se noi parliamo di terremoto ma non sarebbe forse il caso questo è il terremoto di Norcia sempre quello che abbiamo visto amplificato con un secondo e mezzo di intervallo che cosa ho fatto che cosa abbiamo fatto ma siamo andati ad interpretare il terremoto in maniera diversa cioè contiamo gli impulsi dividiamo questi impulsi in categorie 005G fino a 020 020 030 030 040 vediamo che cosa è qual è l'immagine del sisma e questo è quel secondo e mezzo con il conteggio degli impulsi beh esci fuori e qui c'è un discorso che non è più deterministico di carattere come diciamo della meccanica classica o newtoniana è qualcosa che ha un altro aspetto che non è più quella definizione così eratica del nostro sapere ma io mi sono accorto che di impulsi da 005 ce ne sono avuti 75 da 02 ce ne sono avuti 51 24 da 03 siamo già nella normativa nella normativa io ho avuto 24 siamo già attorno alla normativa tra 03 e 04G e io ho avuto attorno a quella normativa 31 32 impulsi nel terremoto da 04G ma è questo come si lega questo con la meccanica newtoniana che F è uguale a MA questa è un'altra cosa quindi qui dobbiamo noi cominciare a ragionare non sappiamo come perché non ci sono formule non c'è niente dobbiamo cominciare a ragionare che quello che abbiamo a disposizione è un malato che dobbiamo andare a curare direttamente dobbiamo andare a curare nel suo intimo dobbiamo trovare tecnologie che vadano a dare dignità fisica ad ogni elemento strutturale non basta cerottare bisogna assolutamente confinare e quindi a un certo punto se parliamo di sterici eccetera 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 ma andiamo avanti e andiamo sulla scusatemi andiamo su questo di nuovo che cosa abbiamo in chiaro mentre mentre la Amatrice aveva questo questo effetto aspettate un secondo che i miei programmi sono mentre Amatrice da qui passava a qui nel momento del 24 dopo sette terremoti sette sei uno cinque quattro cinque eccetera fino a sei cinque cui proprio lo stesso questa è Norcia Norcia rimane intatta e dice ma come mai perché Norcia dal 1859 lo studiai per altri motivi di carattere storico dal 1859 al 79 altro terremoto Valnerina al 97 terremoto Italia Centrale Umbria eccetera Marche Norcia ha fatto interventi al proprio interno ma la cosa particolare è che questi sono gli edifici le murature sono state confinate e quello che abbiamo visto è che era la stessa poi Norcia nel 1859 ebbe un terremoto da 101 morti bambini donne perché era l'ora di pranzo di agosto questo era un terremoto che disfece Norcia e da allora questo signore queste sono immagini di Norcia ancora oggi sono rientrati dopo sette terremoti perché l'altro no l'altro non ebbe il consolidamento nel 1997 allora però mi accorgo che quando vado qui io trovo che questo muro è largo 80 centimetri e che perché perché ebbe nel 1859 ebbe questa persona che era Luigi Poletti per lo Stato Pontificio che fece un regolamento e si ricostruì con certe regole e poi ebbe il consolidamento del 79 del 97 quindi questa è assolutamente Norcia oggi ma la cosa simpatica è questa tanto per dire che c'è la memoria del danno che questo è l'unico edificio in una schiera sul corso che è crollato per fortuna non c'era nessuno è crollato era l'unico che non aveva ricevuto i finanziamenti era l'unico che era stato ritenuto sano nella nostra in questa in questa città e quindi non ebbe finanziamenti l'unico che oggi è crollato quindi la memoria vuol dire poi Norcia questo è solo e dal primo novembre voi pensate quanti altri ci hanno avuto ha avuto quei oltre a 7 100.000 da 0.2 0.2 0.3 magnitudo momento 100.000 90 da 0.3 0.4 magnitudo momento quindi è uno shaker continuo è una sorta di vibratore solo continuo quindi le strutture continuano ad accumulare bene il problema qual è è che Norcia ha avuto terremoti da tutte le parti non si può dire che questo è un terremoto diverso che sia arrivato da una parte sola bene allora la la cosa e poi finisco quanto c'ho finito bravo allora no aspettate non applaudire finito vuol dire che me ne devo andare no non lo permetterò a nessuno allora se riesco ad uscire fuori da questa cosa allora arrivo subito eh allora due cose velocissime perché una riflessione bisogna farla alla fine ecco due cose velocissime ecco qua queste monumenti riflessioni ma veloci ma quanto veloci velocissimi allora questo è la basilica di san benedetto prima guardiamola all'interno guardiamola all'interno guardate capriate quindi neanche spingenti sì gli altari sono all'interno dei pilastri però la domanda è ma questo nostro concetto vale di fronte a questa immagine ah si studia c'è il campaline che ha spostato ma veramente può essere però qui e questo è quanto però allora guardiamo per esempio queste sono le immagini di san benedetto ormai anche qui è un concetto di franamento del tutto non è caos questo era prima del terremoto questo questa parte del si è ha traslato e qui dobbiamo parlare anche di effetti verticali perché ci sono dei momenti in cui c'è il sincrono verticale orizzontale e quindi ci sono effetti taglianti in particolare che danno proprio questi tagli che producono questi tagli anche visibili e questo sarà l'argomento successivo quando sarà ecco qui c'è un taglio classico di uno scorrimento della parte inerzialmente più debole San Francesco questa era prima l'ho curato io guardate guardate l'esterno guardate l'interno questi sono gli edifici aspetta vi faccio vedere l'interno che è più importante l'interno bene qui c'erano le capriate beh le capriate questo muro che è qua è franato lo troviamo qui per elementi assolutamente unitari è franato c'è 45 gradi di frana è venuto giù per questo motivo non è venuto giù per pezzi per flessione e ancora questo ve l'ho fatto vedere franato verticale poi poi vi faccio vedere questi adesso li abbiamo visti guardate all'interno all'interno della della città all'interno della città mentre avete visto tutti gli edifici sani ecco le chiese all'interno della cinta muraria chiesa di sant'agostino di norcia finito eh si si chiesa di sant'agostino di norcia guardate questa è esattamente quello che conosciamo noi guardate questa è esattamente l'immagine del terremoto questa ma gli edifici erano sani vuol dire che noi facciamo degli interventi validi sugli edifici e interventi non validi sulle chiese o le lasciamo così come sono e quindi saranno destinate a crollare perché non sono stati i barbari che hanno fatto collare i nostri tempi sono state le sono stati terremoti finito guardate questo è un altro quindi dobbiamo attivare e stiamo cercando di fare una sensibilità questo è sant'antone di norcia vogliamo attivare una sensibilità all'interno della città queste sono finite dobbiamo attivare mentre la città è sana sono rientrate le persone queste erano franate già attorno al 30 di agosto e la gente al 30 di agosto è rientrata a casa a norcia fino al 30 di ottobre 24 di agosto quindi dobbiamo attivare una sensibilità dobbiamo attivare una sensibilità perché le nostre chiese i nostri edifici monumentali se non facciamo non avranno questo destino grazie 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 massimo e adesso l'ultimo intervento prima delle conclusioni giuseppe Rossi consiglio superiore dei lavori pubblici sull'impiego dei materiali innovativi casi pratici della ricostruzione post sisma prego buongiorno a tutti io illustrerò brevemente una serie di casi di studio attinenti interventi di recupero anche post sisma ripercorrendo un po' la presentazione che ha fatto egregiamente il professor Prota allora in premessa l'utilizzo dei materiali compositi in premessa c'è da dire che l'utilizzo dei materiali compositi è efficace soprattutto in quegli oggetti strutturali che hanno di per sé una potenzialità strutturale ovvero sono già provvisti di elementi di controventamento alle azioni orizzontali per il cui completo meccanismo di dissipazione potrebbe essere interrotto dalla formazione prematura di meccanismi di rottura di tipo fragile in questo caso l'utilizzo di materiali composti è utile ed efficace perché è facile da mettere in opera ma soprattutto non invasivi e quindi utilissimi nel riconferire nel incrementare la resistenza a taglio e la sezione vedremo dei nodi in CA e soprattutto migliorarne il comportamento in campo duttile quando invece si interviene su edifici che hanno carenze di base forte irregolarità per distribuzione di massa di rigidezza ovvero non hanno elementi di controvento in una delle direzioni ovviamente l'approccio progettuale deve prevedere in prima analisi la risoluzione di queste problematiche mediante ci sono diverse strategie pareti a taglio controventi non ultimo il sistema di isolamento e poi successivamente intervenire come spiegava anche il professor Prota su interventi di dettaglio questo attraverso l'utilizzo di materiali compositi o comunque innovativi ho fatto una selezione di alcuni interventi dividendoli in due grandi soluzioni strutture in muratura e strutture in CA per le strutture in muratura vi mostrerò velocemente degli interventi di recupero dei sistemi voltati e gli interventi finalizzati a ritardare i meccanismi di primo modo di ribaltamento fuori piano ovvero degli interventi finalizzati a migliorare il comportamento nel piano per le strutture in cemento armato vedremo l'utilizzo più efficace è proprio nell'intervento nei nodi travi pilastro dove spesse volte il pilastro in nodi non confinati o il pilastro ha una resistenza taglio bassa per una staffatura non idonea attraverso i materiali composti si riesce egregiamente a evitare meccanismi di rottura tipo fragile e comunque ad aumentare la resistenza taglio e ciò comportando nel complesso miglioramento e comportamento globale ecco questo intervento su una piccola volta a San Pietro in vincoli era una volta in muratura che palesava degli quadri fessurativi alle reni probabilmente dovuto ad un intervento postumo che aveva previsto lo svuotamento delle reni e l'inserimento di travi a supporto in solaio in legno con carichi concentrati in chiave chiaramente era stato scomposto il comportamento strutturale della volta connesso alla condizione di carichi per cui il primo intervento è stato quello di ricostruire l'impostazione strutturale preesistente rimettendo a posto i carichi così da riportare la curva di pressione all'interno dello spessore della volta ovvero il centro di pressione sempre all'interno del nocciolo centrale di inerzia quindi le fasce principali delle volte sono state trattate con fasce di FRP nell'intento di ritardare la formazione di cerniere plastiche stradossate in corrispondenza alle enni laddove specialmente in campo dinamico ci sarebbe stata una richiesta di resistenza a trazione che il materiale ovviamente non era in grado di attivare un altro intervento invece nell'ambito di un intervento posto sisma all'acqua su una volta a botti qui un beneficio storico sotto vincolo l'impostazione progettuale è stata quella di conservare il manufatto nella sua consistenza cercando di chiamare a lavorare utilmente tutti gli elementi che costituivano il contesto quindi cercando di conferirli un comportamento scatolare e come? Inserendo dei frenelli in corrispondenza dell'arco semplice e dei tiranti passivi in tal modo si è incrementata la rigidezza e la resistenza del sistema soprattutto per una compartecipazione di tutti gli elementi ottenendo degli utili risultati in un confrontante posto sia in campo statico che in campo dinamico un intervento finalizzato ai meccanismi di primo modo tutti sappiamo che in un edificio in muratura è fondamentale il comportamento scatolare per una migliore risposta in campo dinamico a questo interviene utilmente sicuramente il cordolo certo il beneficio del cordolo è tanto più alto quanto più basso l'incremento di massa e soprattutto di rigidezza che produce nel passato si sono spesso contestati i cordoli in cemento armato perché determinavano una variazione di rigidezza considerevole tanto da poi comportare un quadro fessurativo in caso di sismo per cui l'ideale è quello di avere una muratura armata così da manifestare un'idonea resistenza a flessione a taglio per la presenza di un materiale che evidentemente è capace di resistere a trazione i due casi ecco questo è un primo caso di cordolo in muratura armato didattico se volete ma la realizzazione dello stesso comporta un'incidenza significativa di mano d'opera lo stesso elemento lo si può utilmente realizzare armandolo con delle FRP e in questo caso l'incremento di massa è praticamente nullo e anche l'incremento di rigidezza è trascurabile assicurando esso invece un utile ausilio al comportamento scatolare sempre su edificio in muratura interventi finalizzati a migliorare il comportamento di piano come attraverso l'utilizzo di FRP in particolare lungo le fasce di piano in questo modo si riesce ad incrementare la resistenza del maschio murario ma soprattutto a migliorare nel comportamento di capacità globale passando da un meccanismo classico di rocking con fasce deboli ribaltamento fuori piano o un comportamento invece in piano un altro esempio simile sempre all'Aquila in un contesto in cui l'edificio si era comportato bene le festurazioni indicavano che erano rimaste nel piano con delle classiche lesioni diagonali però si evinceva una direzione prevalente del sismo ovvero una direzione di maggiore vulnerabilità dell'edificio dunque questi prospetti sono stati inseriti gli interventi su FRP con fibra aramidica molto compatibile con la muratura per un basso modulo elastro quindi nell'intento di evitare incrementi di rigidezza interventi sulle strutture in cemento armato il primo è un condominio all'Aquila un edificio che presentava delle forti irregolarità di base distribuzione non omogenee di massa e rigidezza e soprattutto un'insufficienza del giunto che aveva determinato durante il sisma un fenomeno di martellamento fase progettuale si è ritenuto quindi importante da prima regolarizzare la struttura intervenendo con mediante dei controventi dissipativi in alcune maglie di telaio occorreva regolarizzarla e rigidirla perché lo spessore del giunto esistente ritornasse compatibile quindi si è intervenuto nei nodi travi e pilastro per scagionare la formazione di meccanismi di rottura fragili prematuri anche perché la staffatura non era continua e aveva un passo non idoneo e in tal modo si sono combinate le due analisi con l'intervento con gli FRP si è migliorata sia la resistenza che la duttilità ricorrendo a un sistema di pilastro forte travedebole e quindi un comportamento duttile utile al comportamento globale le analisi prima e dopo dimostrano la correttezza degli interventi previsti un altro intervento sempre all'Aquila sulla struttura in cemento armato che invece prevedeva una propria potenzialità strutturale si era comportata bene attivando già nei primi due modi di vibrazione una considerevole quantità di massa però aveva dei problemi locali i nodi non confinati e soprattutto una trave tozza carente a flessione e una trave invece a spessore carente a taglio anche qui si è intervenuto con l'FRP fasciando i nodi quindi incrementando la resistenza a taglio del pilastro riuscì ad ottenere un comportamento più duttile classico di un sistema pilastro forte trave e debole quindi la trave carente a flessione è stata rinforzata con delle fasce stradossali e intradossali e la trave carente a taglio con dei connettori in fibra di acciaio che hanno costituito il tirante del traliccio morce l'ultimo caso di una struttura in cemento armato una struttura in basilicata che aveva una geometria semplice ma il comportamento globale denunciava delle problematiche insite ai portali trasversali che prevedevano delle cerniere interne cui l'intervento ha comportato prima il ripristo nella continuità e già questo migliorava il sistema e poi si è intervenuto sui nodi trave e pilastro sempre con FRP nell'intento di migliorare il comportamento globale e scongiurare soprattutto la formazione di meccanismi di rottura fragile e prematori grazie 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 adesso siamo arrivati puntuali alle conclusioni intanto ringrazio tutti i relatori che tra l'altro hanno anche poi chiesto di fare una battuta però prima sulle conclusioni io voglio chiedere ad Armando Zambrano di venire qui allora se vogliamo fare un attimino una battuta prima di chiudere poi chiudiamo Andrea mi hai chiesto sì io ringrazio nuovamente ora il presidente Zambrano ci ha raggiunto e quindi colgo l'occasione per ringraziarlo anche personalmente per questo questo evento e questa mattinata a cui tra l'altro ho avuto l'onore di essere invitato come relatore io credo che stamattina si è parlato delle norme tecniche ma con una forte enfasi sui materiali innovativi e credo che gli interventi che abbiamo ascoltato dimostrano che abbiamo un'innovazione che in Italia ormai è supportata dalle norme quindi questo ci consente come ingegneri di poter lavorare con una copertura che fino a pochi anni fa non avevamo in modo così completo ritengo c'è stato un intervento io come voi sapete io come altri colleghi lavoriamo molto sull'ingegneria sismica poi avrò modo magari di fare qualche considerazione sulla presentazione del collega Mariani su cui avrei qualche diciamo commento da fare ma credo che questo lo possiamo fare tranquillamente tra noi io mi sento di dire questo il quadro normativo è chiaro io lavoro molto in ambito CNR in ambito delle commissioni del MIT anche col CNI e quindi credo che la maturazione su questi materiali è profonda soprattutto sui FRP e gli FRCM come diceva prima Gianni io sono anche segretario dell'ordine di Napoli come tutti gli ordini con il consiglio nazionale noi ci stiamo molto spingendo per sensibilizzare i cittadini noi siamo convinti tutti che ormai bisogna lavorare al di fuori di quest'ambito di questa sala perché tra noi credo che ci siano le potenzialità le conoscenze per poter fare interventi di prevenzione quindi dobbiamo augurarci che i cittadini cominciano a capire fermamente che questo è qualcosa di necessario il sisma bonus che è sicuramente lo strumento che credo potrà essere il volano vero su questa cosa per cui diciamo le norme ci sono abbiamo penso sia ieri che oggi capito che c'è un percorso che la norma definisce bene che va dalla base di conoscenza alla diagnostica alla modellazione della struttura fino al progetto degli interventi io credo che le norme ci siano e siano pure molte c'è le norme tecniche la circolare linee guida da segretario e da ingegnere io penso che ora sia centrale il ruolo dell'ingegnere perché la norma e tutti gli annessi di livello inferiore vanno interpretati e chiudo solamente ricordando una cosa visto che stamattina si parlava di materiali innovativi e visto che si è parlato molto di disastri di foto che sono state fatte vedere io vorrei ricordare che c'è stato un esempio lampante sulla efficacia dell'ingegneria italiana che è uno tra i tanti ma è quello più eclatante per me che si è verificato all'Aquila nella città di L'Aquila non so se voi sapete l'unico edificio nell'Aquila dentro una zona rossa che è rimasto agibile dopo quel sisma così violento un edificio storico in muratura era stato rinforzato pochi mesi prima con gli FRP sia sulle volte che su altri elementi tra l'altro credo che l'ideatore dell'intervento sia qui in sala e diciamo è stato l'edificio che poi è stato subito riaperto anche alla Corte dei Conti a tutte le funzioni pubbliche in città non appena si è andato subito fuori dalla crisi emergenziale questo dimostra che se ci fanno fare la prevenzione cioè se ci sono condizioni sia da parte dei proprietari ora anche il sisma bonus che rende più facile la parte finanziaria io credo e questo penso che è il messaggio che debba anche uscire da qui oggi che l'ingegneria italiana e quindi credo che anche il presidente Zambrano sia concorde su questo l'ingegneria italiana ha dimostrato e potrà dimostrare che portare a termine la prevenzione sarà un qualcosa che è socialmente necessario ma che poi ovviamente consentirà a ciascun ingegnere di esprimere le proprie potenzialità professionali io mi fermo e vi ringrazio grazie Andrea e prima ancora delle conclusioni volevo dare la parola a Michele a Michele Brigante no no andiamo alle conclusioni io volevo soltanto ringraziare tutti che hanno partecipato anche con pazienza e riportare il saluto del mio consiglio i consiglieri che sono qui nascosti nei banchi che hanno dato un grande sforzo per tenere questa organizzazione complessa solo un appuntamento Andrea l'ha anticipato un po' c'è un lavoro che si avvia questo è l'inizio di un percorso partiamo con dei moduli specifici di approfondimento tematiche dell'aggiornamento delle norme per le parti più pecolari e credo che fra poco uscirà un programma che lo stiamo vedendo un po' insieme e tutti su sistematico per tenere degli aggiornamenti per gruppi più ridotti perché non si può fare in mille persone e quindi è un appuntamento a brevissimo e allora andiamo senz'altro alle conclusioni caro presidente ecco tutto qua grazie le conclusioni sono facili perché da una parte complicate dall'altra perché se guardiamo quello mi tolgo da qui che c'ho proprio questo faro questo funziona perfetto perché sono facili da una parte e complicate dall'altra perché il convegno sicuramente ha avuto un successo non lo dico perché siamo a caccia ora alla ricerca di successo ma perché c'è stata tanta partecipazione l'ho già detto anche ieri che Salerno i professionisti campani su questo tema del terremoto e riscosismo sono particolarmente interessati quindi hanno partecipato in maniera straordinaria per il resto ieri abbiamo avuto una seduta molto interessantissima con relazioni veramente straordinarie soprattutto per la capacità in brevissimo tempo di esporre concetti complessi delicati e aprire anche uno sguardo verso il futuro il futuro è quello che si è discusso oggi dei materiali innovativi delle tecniche che possono consentire di utilizzare un possibile idea di piano di prevenzione utilizzando questi meccanismi questi materiali soprattutto riducendo i costi e consentendo l'ho sempre detto che questo è un po' il cuore del problema alle persone di rimanere nelle abitazioni durante gli interventi questo è lo sforzo che l'ingegneria deve fare questo è lo sforzo che è stato fatto in questi anni anche con le norme tecniche che è anche su impulso del Consiglio Nazionale di Ingegneri ricordando un po' le discussioni che da sei anni a questa parte ci sono state rispetto a un primo testo di sei anni fa che poi è stato abbastanza modificato fino ad arrivare a quello attuale che non ci dimentichiamo è frutto poi di una votazione in cui c'erano due proposte e quella che abbiamo sposato noi andava verso una sicurezza diffusa nell'abbassamento anche dei coefficienti ma per consentire di utilizzare queste norme il più possibile e di rendere soprattutto il miglioramento sismico visibile e anche spendibile sul piano del mercato commerciale delle abitazioni perché poi il vero problema è questo far capire in un mercato dove i temi sono spesso diversi i valori che si attribuiscono agli immobili prescindono dalla sicurezza oggi per effetto della certificazione dell'energetica si comincia a ragionare anche in termini di risparmio ma ancora non si non si ragiona in termini di sicurezza eppure come consiglio nazionale abbiamo partecipato al tavolo di lavoro dell'Abbia abbiamo sottoscritto insieme a tante associazioni estimative a tante banche all'Abbia appunto alla Banca d'Italia un documento in base al quale gli aspetti della sicurezza erano prioritari nella valutazione di un immobile questo poi ai fini ovviamente della concessione di mutui però era importante questo principio purtroppo un principio che non è stato o non sempre applicato o devo dire applicato molto poco tant'è che recentemente abbiamo scritto una nota di protesta alla Banca d'Italia perché pur avendo ha messo una circolare alle banche in cui dava indicazioni secondo quel protocollo di intesa che avevamo sottoscritto alla fine le banche hanno continuato a ragionare a dare incarichi professionali a chi alla fine di questi temi se ne è come dire poco interessato e allora come vedete la battaglia è dura è difficile è complessa anche perché Casitalia che doveva essere la risposta in qualche modo all'esigenza del piano di prevenzione ricordo che il 6 settembre di due anni fa io partecipai a questo incontro col presidente Renzi sul tema Casitalia in quell'occasione esposi la necessità del piano di prevenzione sismica come l'infrastruttura più importante del paese come un passaggio essenziale per modernizzarlo l'aspetto della sicurezza è ovviamente anche un aspetto economico anche un aspetto di investimenti anche un aspetto di produttività è difficile vivere e investire in un paese dove non si è sicuri nelle proprie abitazioni nei propri capannoni nelle proprie strutture nelle proprie infrastrutture perché anche questo è un problema ci arriveremo non lo so questi sei anni in cui il piano di prevenzione da parte degli ingegneri è stato posto sempre al primo punto di una serie di proposte che abbiamo fatto a partire dal professional day del primo marzo 2012 ancora oggi è incompiuto o meglio inattuato o meglio se ne parla solamente in occasione delle elezioni o nei giorni immediatamente successi e poi ce ne si dimentica abbiamo lavorato per questo al piano di prevenzione l'abbiamo illustrato al presidente Renzi che dopo una iniziale perplessità poi abbiamo visto che Casitalia che doveva fare di tutto e di più dalle infrastrutture al rilancio del mezzogiorno alla sistemazione delle periferie fino alle sistemazioni delle piste ciclabili alla fine ha scelto di intervenire sul piano di prevenzione a dimostrazione sismica dico sempre che la nostra idea la nostra visione era giusta e che il piano di prevenzione fosse il primo punto poi sappiamo il documento che cosa ha detto ha finito solamente per dire guardate dobbiamo fare un'indagine speditiva sui fabbricati da qui possiamo ragionare per avviare un percorso di prevenzione spendiamo 100 milioni facciamo 500 mila verifiche quindi a 200 euro più o meno ma non è una questione di costi e come per l'ennesima volta non si prende il toro per le corna come si direbbe non si affronta il tema in maniera completa non si pensa che per esempio una verifica sui fabbricati potrebbe essere soggetta anche al credito di imposto diciamo al sisma bonus indipendentemente se si fanno i lavori perché è importante anche sapere se il fabbricato sta perfettamente bene anche quello è un modo di fare sicurezza anche quello è un modo per dare informazioni e anche quello è un modo per rendere cosciente il cittadino che le caratteristiche sulla sicurezza sono più importanti che se guardiamo il mare il cielo o qualche montagna di prestigio allora su questo veramente non molliamo non molleremo l'abbiamo messo nel documento presentato tre giorni fa alla politica all'istituzione che illustreremo al Presidente della Repubblica in un prossimo incontro però ci vogliono alleanze perché su questo tema non si può scherzare e per quanto gli ingegneri abbiano acquisito il Consiglio Nazionale in particolare una ampia rappresentanza insieme anche alle altre professioni della rete e delle professioni tecniche riguardo proprio gli aspetti della sicurezza è evidente che su questo il mondo accademico il mondo delle istituzioni pubbliche dal CNR da Enea da Ispra molti di questi hanno sottoscritto il nostro piano di prevenzione insieme alle società scientifiche insieme alla conferenza per l'ingegneria la conferenza per l'architettura e anche quella per le scienze forestali insomma c'è di tutto in questo di sottoscrizione di questo documento però c'è un passaggio essenziale fin quando il cittadino in questo paese sa che se viene un terremoto alla fine lo Stato gli ripaga non solo i danni che poi abbiamo visto in molti casi i danni alle strutture sono anche molto meno costosi rispetto a quelli di tutto il resto dagli impianti alle tompagnature e così via e che quindi gli rimette in piedi tutto e che puff come dire ritenere quasi una fortuna avere un terremoto poi nessuno pensa che ci rimpurri anche rimanere sotto 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 la costruzione e allora questo problema non lo risolveremo mai andare verso l'obbligatorietà degli interventi di miglioramento di adeguamento visto che c'è una resistenza straordinaria anche perché abbiamo di fronte lobby mettiamola così più potenti delle nostre probabilmente sì che hanno interessi forti probabilmente sì che sono in grado di muovere voti e interessi in Parlamento almeno quello che c'è stato fino ad ora anche questo è vero qualcuno di voi si ricorderà forse qualche un anno fa più o meno una mia discussione con un rappresentante di un'importante associazione di proprietari di rizzi ne ho avuto un ulteriore come dire rifacimento qualche settimana fa e allora ci scontriamo anche con questo con una miopia a volte della politica spinta anche da queste associazioni che hanno il terrore di vedere diminuito il proprio patrimonio il valore del proprio patrimonio e quindi dobbiamo fare alleanze fare alleanze perché questo è un tema fondamentale io mi sono convinto che forse più che rendere perché poi bisogna fare anche un po' di mediazione pensare che alla fine si possono ottenere i risultati anche in maniera più soft allora l'idea che ci è venuta che abbiamo proposto alla filiera delle costruzioni dove siamo con Ance con Lega Copp anche con associazioni ambientaliste è quella di dire da qui a 30 anni non rendiamo obbligatorio però diciamo chiaramente alla gente che dovranno o assicurarsi per i danni dal terremoto e quindi questo diventa in qualche modo un modo per obbligare e rendere conveniente fare l'intervento ma comunque lo Stato non ripaga più nessuno perché ci sono 30 anni per fare questo intervento e se in 30 anni questo Paese non riesce a mettersi in testa e a sfruttare le proprie capacità per definitivamente migliorare le proprie le proprie strutture le proprie abitazioni le proprie infrastrutture le proprie scuole perché poi saremo sempre a ragionare che le scuole poi sono pericolose sono insicure però non ci si mette mano c'è una sentenza della Cassazione che è diventata come dire un po' un mantra che spesso le pubbliche amministrazioni a volte richiamano a volte se ne dimenticano e quindi questo è il progetto per i prossimi anni speriamo che un Parlamento nuovo che soprattutto all'inizio è più volenteroso più attento alle esigenze dei cittadini che le hanno votato ci accompagni in questo percorso noi sicuramente non molleremo e sono convinto che questi prossimi due o tre anni saranno essenziali in questo e come ingegneri cosa dobbiamo fare e chiudo con questa riflessione già ho fatto ieri qualche considerazione sulle riserve di legge che sono sempre limitate forse non ci saranno qui c'erano più di mille iscrizioni insomma tantissimi partecipanti vuol dire che il mondo degli ingegneri soprattutto ingegneri ovviamente il campo non è riservato soltanto a noi ma gli ingegneri sono determinanti nella progettazione delle opere e della sicurezza dei fabbricati esistenti allora qui dobbiamo cominciare a dare valore aggiunto alla nostra competenza sappiamo che la formazione obbligatoria sta diventando come dire il cuore pulsante delle attività degli ordini del Consiglio Nazionale sappiamo anche che dire essere ingegneri nel campo strutturale non significa niente nel senso che ognuno soprattutto se ingegneri civili ambientali con l'appartenente al primo settore lo è di fatto ha una competenza specifica istituita per legge e qui dobbiamo però cominciare a pensare che se vogliamo rimanere nel futuro su questo mercato dobbiamo dare compiutezza a questo ragionamento è che la certificazione delle competenze è il futuro del progettista specializzato e competente anche su temi particolari come questo e questo è il futuro sul quale partendo dagli obbligi di legge e dalle classi di lauree universitarie la formazione è obbligatoria o non perché non è detto che sia necessario per forza avere CFP per specializzarsi se no questo è un altro problema che affronteremo però la certificazione delle competenze del progettista strutturale credo che sia un obiettivo fondamentale per crescere noi come categoria e per mantenere un mercato non solo italiano perché le nostre competenze le nostre specializzazioni sono un valore che possiamo spendere in tutto il mondo non a caso non so se l'ha detto Gianni stamattina la prima prassi di riferimento che abbiamo deciso di istituire nei rapporti con uni per il consiglio nazionale ingegneri in funzione della certificazione del procedimento della certificazione delle competenze è proprio il progettista strutturale è una scelta precisa perché riteniamo che questo sia un campo enormemente diffuso enormemente importante l'abbiamo visto anche col convegno di oggi e allora questo è l'obiettivo sul quale dobbiamo puntare qualcuno penserà che inutile non è obbligatorio però se vogliamo rimanere sul mercato le esperienze che ho avuto anche come vicepresidente di uni come consigliere di amministrazione di accredia che è poi il soggetto che dovrà certificare e controllare gli ordini affinché questo processo sia serio e terzo perché questo è importante non ce la possiamo cantare e suonare da soli dobbiamo fare in modo che qualcun altro verifichi che quello che diciamo quello che facciamo sia serio bene questo è il futuro mettiamocelo bene tutti in testa e allora il consiglio nazionale su questo è molto avanti forse l'unica professione italiana ma in campo europeo non ne ho trovate altre però non posso dare certezze che siano avviate verso questo processo di miglioramento della qualità e di certificazione dei propri iscritti che credo sia oggettivamente un futuro e che credo renderà attrattivo il mondo ordinissimo anche per una parte per tanti professionisti parlo per esempio degli ingegneri informatici nell'ambito del nostro nel nostro mondo solo il 20% si iscrive all'ordine perché non avendo riserve specifiche di lì ci ritengono che non possa essere utile però se l'iscrizione all'albo come riteniamo sia una premialità ed è giusto che lo sia perché iscriversi all'albo vuol dire avere e rispettare delle regole che non valgono per gli altri professionisti non valgono ovviamente per i cittadini regole etiche deontologiche di moralità di qualità di preparazione il superamento di un esamo di stato benissimo se andremo verso questo percorso della certificazione credo che gli ordini ancora di più contribuiranno a dare qualità ai propri iscritti a garantire i committenti e a far crescere il paese grazie grazie grazie